Voglio presentarvi Mauro Pitiruti, che oltre a essere un amico e il salvatore dei miei cateteri venosi da un bel po' di anni, è il maggiore esperto mondiale di impianti venosi, e è il fondatore e nonché il presidente della società scientifica Gavecelt, che è proprio una società scientifica che si occupa di formare nuovi impiantisti con le tecniche più aggiornate che ci sono in ambito internazionale. Quindi direi la persona che ha dato una svolta al concetto di impianti venosi, che sino a qualche anno fa, io l'ho vissuto sulla pelle una ventina di anni fa, erano considerati solo un accesso idraulico, considerando appunto quelle che sono state sia le evoluzioni in termini di sicurezza rispetto alle sepsi, che di tecnologie, di nuovi materiali, e quindi penso che sia la persona più adatta a raccontarci che cosa ci sta dall'altra parte, quindi quali sono le motivazioni di certe scelte che vengono fatte dagli impiantisti e quanto è importante una relazione sia di fiducia che di confronto con la persona che si occupa di questo presidio, che per noi è tutt'altro che accessorio. Grazie Mauro, io ti ringrazio moltissimo di questa tua presenza preziosa. Grazie a te Alessandro, l'invito estremamente, che hai accettato con grande onore e ovviamente con grande piacere, anche perché non mi capita frequentemente di parlare con un gruppo così nutrito di persone che l'accesso venoso lo vedono come parte della propria vita personale e privata e non come da parte della vita professionale. Io vorrei fare una cosa abbastanza interattiva, vorrei che fosse possibile magari a blocchi, mi fermerò un attimo per sentire un po' di domande, perché sono veramente curioso di sapere quali sono le domande che vi vengono in primis. Vi parlerò della scelta a gestione dell'accesso venoso parenterale, facendo degli affondi ovviamente, specificamente sulla nutrizione parenterale domiciliare. Voi sapete che è una parola molto abusata in questi ultimi tempi, l'appropriatezza, cioè cose appropriate e così via. Nell'ambito dell'accesso venoso, nell'ambito del medico, ma soprattutto nell'accesso venoso, la parola appropriatezza non è una parola vuota. Appropriato cos'è? È quello che consente di fare una determinata manovra clinica, prima di tutto con la massima sicurezza per il paziente. Cioè una manovra che non abbia queste caratteristiche, che non abbia ottimizzato la propria sicurezza, non è una manovra appropriata. Ovviamente, oltre a questo, il fattore fondamentale è la massima efficacia clinica, cioè il fatto che quella manovra che facciamo sia effettivamente adeguata e proporzionata e, come dire, utile a quello che è il nostro obiettivo clinico. E poi, sempre in ambito gerarchico, dobbiamo anche considerare la costa efficace, dove costa efficacia non va vista soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle soluzioni che, oltre ad essere più economiche, sono anche logisticamente più semplici, logisticamente più facili. In questo senso, le soluzioni che vi dirò, hanno dietro degli obiettivi che sono sostanzialmente, per quanto riguarda il nostro campo, che è quello dell'azione parentale domiciliare, ottimizzare l'efficacia clinica, ovviamente, quindi, o fornire al paziente un dispositivo che funzioni bene, e minimizzare il rischio di complicanze. Perché, alla fine, le complicanze sono quello che determina la vita del catetere. E, per chi è in audizione parentale domiciliare, la vita del catetere in qualche modo si sovrappone, interagisce proprio con la propria vita personale. Un catetere che dura è un catetere che si complica il meno possibile. E, alla fine, le complicanze sono poche, sono sempre le stesse, sono 4 o 5, sono l'infezione, la trombosi, la dislocazione, l'occlusione, complicanze delle rotture del catetere, e così via. Accanto a questo, però, chi sta in parentale deve anche tenere conto che vanno minimizzate le complicanze metaboliche legate alla nutrizione. E questo ne parlerò un po' meno, lo accennerò, perché sostanzialmente è una questione che riguarda più un nutrizionista che non un povero idraulico, praticamente, come sottoscritto. Oltre a questo, però, occorre semplificare la gestione e minimizzare i costi. I costi, ripeto, anche semplicemente logistici, non pensare soltanto in termini monetari, ma i costi del numero di persone che ci vogliono per fare una certa manovra, la semplicità nell'individuare dei dispositivi, e così via. Alla fine, i quattro grandi capitoli sono quelli dell'indicazione appropriata su cui c'è poco da dire, la scelta appropriata del dispositivo per l'infezione prelenterale, in cui c'è molto da dire, l'impianto appropriato, che forse non vi interessa, ma proprio vi dovrebbe interessare, perché la maggior parte delle situazioni, come dire, problematiche, che poi si rivelano, diventano manifeste durante la gestione, come imparerete, spero, o come riuscirò a trasmettermi in questa lezione, in questa chiacchierata, riguardano proprio il momento dell'impianto. Cioè l'impianto è una briciola di tempo rispetto al durato del catetere, cioè un catetere che sta lì per cinque anni, l'impianto dura probabilmente un'ora, ed è un centomillesimo della durata del catetere, eppure in quel centomillesimo di tempo si mettono le premesse per un dispositivo che abbia buona performance, buona durata, oppure no. E poi ovviamente la gestione, in cui vi darò alcuni consigli basati sulle novità tecnologiche che hanno ottimizzato in qualche modo la gestione proprio in quei temi di appropriatenza che vi dicevo, cioè fare le cose in maniera più semplice e più sicura. Io ho sempre avuto un ottimismo programmatico, io penso che la buona tecnologia è quella che ogni giorno si accavalla con novità, eccetera, eccetera, la tecnologia buona è quella che ci consente di fare meglio e in maniera più facile le cose che devono essere fatte. L'indicazione appropriata ovviamente non sto qui a dirvelo, nel caso di chi deve fare un'utizione parenterale omicidale a lungo termine non ci sono molti problemi. Ricordatevi però che vi sono anche dei pazienti che facciano un'utizione parenterale per tempi abbastanza limitati e ci sono anche delle persone in cui non sono obbligate a fare esclusivamente l'utovivio parenterale ma che possono in qualche modo mangiare oppure nutrirsi per sondino in cui l'unizione parenterale è un supporto parziale. Diciamo che la scelta alla fine dipende dall'entità del malassorbimento e del maldigestione chi come la maggior parte di quelli che fanno parte della vostra situazione immagino siano in queste condizioni cioè di avere un malassorbimento di gestione tali da essere costretti comunque a un'utizione parenterale più o meno totale. Qualche volta se è possibile mantenere un minimo di nutrizione tramite tratto costanterico questa è una cosa incredibilmente utile perché mantiene un trofismo. Ricordatevi che il nostro intestino lo stomaco magari no ma l'intestino è assolutamente indispensabile anche come un organo metabolico è un organo che in qualche modo lavora insieme al fegato per gestire determinati substrati. Ma di questo direi non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi invece può essere la scelta appropriata del dispositivo. Come sapete esistono dispositivi di varie tipologie dispositivi centrali e periferici dove centrale significa avere la punta del catetere in una vena cava o nel lato destro. Vena cava superiore vena cava inferiore lato destro. Perché? Perché le soluzioni che facciamo per un periodo parenterale sono soluzioni molto iperosmolari. L'iperosmolarità viene tollerata maluccio dalle vene periferiche. Normalmente il sangue ha un 295 poco meno di 300 migliosmoli litro di osmolarità e le soluzioni che noi facciamo viaggiano tra 700 e 1200 1300 o meno osmolari litro. Quindi viaggiano da valori che sono da due volte a quattro volte i valori osmolità del sangue. Questo significa che per riuscire a fare in maniera sicura senza danneggiare le vene la nutrizione parenterale bisogna in qualche modo prevedere che questa nutrizione venga immediatamente diluita. immediatamente diluita significa mettere i nutrienti in una grossa vena dove ci sia un alto flusso che possa immediatamente e completamente diluire questo carico smolare che potrebbe irritare le vene periferiche. In realtà ci sono alcune soluzioni che non sono così tanto smolari ad esempio le soluzioni di 700 800 migliosmoli litro che sono quelle normalmente delle cosiddette parenterali periferiche che in realtà possono essere fatti per un periodo abbastanza prolungato tramite un agocandolo midline o mini midline eccetera però diciamo che ormai si sa che chi sta a casa a fare un'azione parenterale realmente domiciliare deve avere un'attenzione per via centrale se no il cateto periferico può essere usato ma per il periodo limitato di tempo in ambito introspedaliero e ci costringe a delle soluzioni che non sono molto nutritive perché contengono dei nutrienti abbastanza diluiti da poter essere tollerati dall'avena periferica un'altra cosa importante posto che parliamo quindi di catetere centrale è la caratteristica strutturale del catetere per molto tempo si sono stati i cateteri in silicone oggi si sa che i cateteri migliori sono quelli in podrietano particolarmente i podrietani nuova generazione il podrietano nuova generazione è quello che o anziché essere un poliuretano puro è un poliuretano o sono delle catene diuretani che sono intervallati anche da una da molecole di carbotano oppure di etere e quindi vengono di carbonio di etere quindi vengono fuori dei policarbonato uretani dei poli etere uretani che hanno le caratteristiche di maggiore solidità e di maggiore durata rispetto al normale poliuretano quello che invece non ha caratteristiche di durata è il silicone che purtroppo è un materiale molto ben trovato all'organismo ma estremamente fragile ed essendo fragile costringe anche a dei cateteri con una perete più spessa e quindi anche dei flussi più bassi è difficile di sostruire è più facile che si sostruisca è più facile che si rompa fino a qualche fino a un decennio fa si pensava anche che il catetere valvolato avesse dei vantaggi ormai nessuno usa più i cateteri valvolati in America i cateteri valvolati sono diventati forse l'un per mille o meno comunque meno dell'un per cento di tutti i cateteri perché si è visto che non hanno vantaggi il numero dei lumi è anche un altro aspetto la maggior parte delle persone che stanno in nutrizione parentale domiciliare in realtà fa parentale e basta e forse probabilmente è il caso di tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento poi me lo direte però vi sono delle persone che fanno parentale di pazienti che fanno parentale a casa e che contemporaneamente oltre a parentale fanno anche delle altre terapie di supporto questo specialmente quelli che sono afflitti da patologie o plastiche che stanno facendo parentale domiciliare per motivi plastici e in questi è giusto avere più di un lume perché un lume viene dedicato esclusivamente all'utenzione e l'altro ad altri aspetti e poi infine c'è anche il calibro perché ovviamente più il catetere è grosso più il flusso scende bene ma più il catetere è grosso e più c'è il rischio che l'avena possa risentirsi e si possa provocare una trombosi l'altro aspetto importante è che può essere la scelta tra i catetri esterni e i sistemi totalmente impiantabili diciamo che in linea generale il sistema i catetri esterni sono catetri che per la parenterale funzionano meglio e con meno complicanze però sono anche pazienti che preferiscono avere sistemi totalmente impiantabili per i vantaggi diciamo così della vita di tutti i giorni vantaggi sociali che può dare il sistema totalmente impiantabile ovviamente sempre a patto che la parenterale venga utilizzata come una parenterale notturna oppure di 14 ore eccetera laddove la parenterale si è costretti a farla 24 ore su 24 il vantaggio del porte ovviamente non c'è ma su questo ritorneremo l'altro aspetto è da dove si passa sia per i catetri esterni che per i catetri di porte in realtà uno può prendere e arrivare alle vene centrali che dicevamo sono la cava superiore la cava inferiore dell'atrio o passando la vene del braccio o passando la vene della zona sopra sotto claveare o passando la vene della coscia dell'inguine e questi rispettivamente vengono chiamati pic, cic e fic pic sarebbe perifero in set centro al catetere potranno essere i catetri esterni oppure di porto o di pic porte e si arriva alla vena centrale cioè alla cava o all'atrio passando dalla vene del braccio nei cic che sono il centro in set del catetere poi vi farò vedere delle figure invece si arriva passando da vene che la trova soprattutto caviare e per i fic della vena femorale quando si tratta di un catetere esterno poi vedrete come può essere tunnelizzato o non tunnelizzato però alla fine della storia la stragrande maggioranza dei catetri che vengono usati per il panentore dovrebbero essere tunnelizzati perché la tonalizzazione aumenta la stabilità del catetere e soprattutto protegge un po' dalle infezioni diciamo che in linea generale il catetere centrale come già vi ho detto è la regola quindi punta in cavo superiore in alto destro il cavo inferiore e se però anche per un breve periodo e forse a voi sarà capitato per un breve periodo di avere delle complicanze per cui il catetere venoso centrale era stato rimosso le sacche pervene periferica devono essere meno iperosmolari delle sacche centrali e hanno una durata limitata tipicamente nella panentrale domiciliare può essere utilizzata come per un periodo ponte dopo aver rimosso un catetere inferto e in questo senso vanno bene però soltanto per brevi periodi diciamo che in realtà la risposta di centrali periferiche come ho detto è che le panentrali domiciliari vanno attuate tutte a breve via centrale per le caratteristiche che vi ho già detto il silicone è un materiale inaffidabile i cateteri valvolati hanno un vantaggio i lumi devono essere il meno possibile tenendo presente che comunque per entrare scendere un lume delicato e il calibro bisogna essere sicuro che il calibro non sia troppo piccolo 18 goce ecco i goce è una misura che corrisponde sostanzialmente all'area interna del catetere anzi per chi fosse curioso 18 goce significa un diciottesimo di centimetro quadrato quindi vuol dire che più questo numero diminuisce e più l'area aumenta perché un 14 goce sarà un 14esimo di centimetro quadrato tanto per darvi un'idea un pic di 4 france ha un interno di 18 goce e un pic di 5 france avrà un interno di 16 goce e così via attenzione che questo vale per il puritano perché invece il silicone ha un rapporto molto diverso a parità di calibro esterno sarà molto più piccolo per il tipo dispositivo andiamo direttamente senza diciamo così a quella per via ex ospedaliera senza fermarci sul resto nella nutrizione parentale ex ospedaliera in cui rientra anche la domiciliare ecco tenete presente che quando parlo di ex ospedaliera in realtà io vedo tutto un mondo di quello che il paziente che ha un accesso che non viene gestito in ambito ospedaliero ad esempio il paziente che sta a domicilio va bene ma anche il paziente che sta nell'hospice per la maggior parte delle ospice non hanno delle caratteristiche tali che devono essere individuati come come ospedalieri e così come anche i pazienti che vanno avanti e indietro come l'idea ospita quindi nell'ambito ex ospedaliero in cui rientra per l'entrata domiciliare mi sembra utilizzare o dei catetri esterni sempre tunnelizzati oppure dei catetri totalmente impiantabili tipo porte in casi selezionati adesso vi farò vedere un po' di figure per il catetro esterno diciamo in linea generale si usa sempre il tunnelizzato per la tunnelizzazione che vi farò vedere ha delle caratteristiche quindi le migliori opzioni per la scelta di un dispositivo dove per entrare domiciliare poi mi direte quale dispositivo avete come come li vivete sono avere i catetri in podio etano power injector a punta aperta e non valvolati il silicone valvolato tipo i vari Hickman Groschung Brovic eccetera appartengono al passato ormai non solo non li mettiamo più ma spesso quando ci arriva un paziente con questi cateteri prima che si complicano perché si complica inevitabilmente con problemi meccanici tendiamo a toglierli ovviamente con il beneplacido del paziente il cateter centrale sempre e esterno può essere un Hick un Hick bisogna stare attenti a quelli che sono i siti di emergenza se si mette un Hick che va benissimo per la parenterale durano anche molti anni specialmente se sono tunnelizzati il sito di emergenza deve essere la metà del braccio ovviamente per i Hick cioè quelli che vengono messi con il sito di emergenza con la puntura delle vene sopra e sotto claviare il sito di emergenza deve essere nel toraggio cioè nell'area sotto claviare perché avere qualcosa che fresce dal collo una zona sopra claviare è una cosa scomoda e più rischiosa i pedifemorali ormai si tende a mettere il sito di emergenza a metà coscia anche se una volta si metteva verso l'alto esiste anche un protocollo che si può vedere sul sito Gabby e oppure anche scaricare sull'iPhone in cui ci sono queste indicazioni che riguardano proprio la scelta del dispositivo nelle varie situazioni vedete che sotto 4-6 mesi è la nuizione parenterale a medio termine e sopra 4-6 mesi la nuizione parenterale a lungo termine tenendo presente che alla fine quando facciamo una nuizione parenterale a lungo termine noi abbiamo due preoccupazioni la protezione dalle infezioni come anche per medio termine ma anche soprattutto la stabilizzazione orbene sappiate che esistono oggi soltanto tre strategie per bloccare il cateter per stabilizzarlo in maniera diciamo perenne cosiddetta perenne ed è l'usare un cateter in cuffiato tunnelizzandolo in maniera tale che la cuffia capi dentro il tunnel e utilizzare un cateter in un cuffiato tunnelizzandolo ma fissarlo poi con un ancoraggio sottocutaneo cosa che adesso sta andando per la maggiore o utilizzare un sistema totalmente impiantabile queste sono le uniche tre strategie che possono stabilizzare e questi sono esempi di cateter a medio termine qui vedete un cateter pic in silicone vecchio stile non tunnelizzato qui vedete un cateter pic anche qui però bilume e qui non lo vedete il cateter perché la signora in questione si è procurata una una graziosa copertura del catetere questo è un esempio di un catetere in poliuretano bilume una delle quali verrà usato per la parenterale e l'altro per le altre terapie questo è un paziente neoclastico vedete che c'è una tunnelizzazione cioè la puntura è stata fatta qui il cateter è stato tunnelizzato in una zona sottoclaveale e notate anche come il cateter si è bloccato con quello che adesso è il sistema più affidabile per bloccare il cateter che è l'ancoraggio sottocutane qui in realtà la lette è stata anche come dire controbloccata se possiamo usare questo brutto termine con uno statlock che voi tutti conoscete probabilmente però quello che mantiene il catetere bloccato fisso in questa posizione è l'ancoraggio sottocutane un dispositivo che è fatto di due microancore che vengono sistemate sottocute al momento dell'impianto e questo dispositivo praticamente dura finché dura il catetere qui vedete una paziente anche questa neoplastica in un'unzione per entrare domiciliare anche per giusticarvi il fatto che sia una doppia una doppio lume ecco in questi casi vedete che non c'è falta di catete doppio lume vengono classificati in qualche modo vengono indicati con un codice colore in questo caso una via è questa via col connettore bianco l'altra via è il connettore viola questo facilita la buona gestione del catetere perché si sa che la via da utilizzare per la parenterale domiciliare è quella ad esempio quella bianca e si utilizza sempre quella perché non è soltanto che la parenterale deve andare da sola ma deve andare preferimente in un lume dove non ci siano altre altre interferenze in pazienti in condizioni particolari o pazienti con un detoramento cognitivo che si strappano tutto o in pazienti che hanno delle inagibilità della cavo superiore ad esempio delle compressioni mediastiniche o qualche eccetera utilizziamo anche dei catetri in femorale superficiale che furiascono la metà coscia e ci crediate o no sono dei catetri molto comodi anche qui molto puliti però vanno riservati a pazienti più che pazienti con vita attiva a pazienti che sono allettati la maggior parte del tempo sempre consigliabile quindi l'autorizzazione sempre consigliabile l'ancoraggio sottocutaneo nel ambito del lungo termine se noi andiamo a vedere le linee guida la palenterale domicilare dovrebbe ricadere sempre nell'ambito dei catetri esterni perché le linee guida dicono che il port e qui vedete varie possibilità il chest port che poi sarebbe il cheek port il peak port il peak port cioè il port oracico il port albrecchiale il port femorale dovrebbero essere riservati esclusivamente all'uso infrequente ora le linee guida danno come uso infrequente il cut off di una volta a settimana cioè praticamente se tu usi il catetere meno frequentemente una volta a settimana sei automaticamente candidato al port salvo eccezioni l'esempio tipico è quelli pazienti che sono in chemioterapia che usano il port ogni tre settimane magari e che in questo senso si giovano del fatto che dopo aver utilizzato il port quel giorno ogni tre settimane per fare chemioterapia se ne stanno tranquilli per venti giorni dimenticandosi di avere accesso all'uso l'uso frequente più di una volta a settimana è l'uso automaticamente di tutti i pazienti in parenterale quindi tecnicamente in teoria per default la prima scelta per un paziente che sta in parenterale dovrebbe essere la scelta di un catetere esterno che poi sia brachiale centrale femorale dipende da quella vena che si appunta purché siano tutti i cateti utilizzati e ben stabilizzati e come si fa a stabilizzare ripeto o utilizzando un catetere gonfiato o utilizzando un catetere che sia tonalizzato anche se non gonfiato ma fissato con l'ancoraggio sottocutaneo se dobbiamo mettere dei porti e molto spesso i porti vengono scelti dal paziente specialmente il paziente giovane con una vita attiva che vuole fare sport vuole non avere impicci sul lavoro che fanno per entrare soltanto notturna che vuole farsi il bagno o nuotare o cose del genere il port è la prima scelta e in questo caso può essere messo al braccio con dei vostri vantaggi in termini di invasività perché mettere il porto al braccio non ha nessun rischio di complicanze di estrazione e un ottimo risultato cosmetico nel senso che se uno ha un porto al braccio sicuramente lo nasconde meglio basterà un vestito con delle mezze maniche piuttosto che uno che abbia il porto al petto che è ovviamente in bella vista tenete presente che uno il porto lo mette al braccio o lo mette al torace o lo mette al femorale i rischi sono sempre gli stessi il porto toracico dipende da dove si punge può essere senza tonalizzazione se si punge già l'ascellare oppure la tonalizzazione verso il torace vi ricordo che mentre i cateti esterni vanno sempre tonalizzati il porto è venuto tonalizzato soltanto in necessità se si vede che la zona della vinipuntura è lontana dalla zona di dove si vuole mettere il riservoir cioè la scatolina diciamo così recentemente abbiamo anche fatto delle tonalizzazioni verso il braccio e poi infine i fig port che però per il parentale domiciliare vengono usati molto molto di rado quindi ripetendo l'uso frequente lungo termine che in teoria dovrebbe essere la prima scelta salvo il parere del paziente dovrebbe essere il catetere minoso centrale tonalizzato PIC C-C-FIC e stabilizzato mediante due possibili strategie questo è un esempio vedete qui a sinistra un PIC questo è un PIC usato a casa per la paziente parenterale vedete che la puntura è stata fatta qui però la fuoriuscita è qui quindi c'è una piccola tonalizzazione vedete che è fissato con un secco raccato cioè con un ancoraggio sottocutaneo qui vedete un paziente purtroppo neurologico però anche lui in panentrale domiciliare obbligata perché per vari motivi non poteva fare l'enterale qui vedete una lunga tonalizzazione una fuoriuscita molto distante dalla teagostomia il che è fatta apposta perché fatta apposta perché la teagostomia purtroppo si comporta come un geyser di germi quindi più si avvicini con il sito di emergenza alla teagostomia più c'è il rischio di contaminazione del sito di emergenza e qui vedete che in questo caso il sito di emergenza è stato portato ad arte il più basso possibile e anche qui fissato con un secco raccato l'ancoraggio sottocutaneo e cuffia hanno dei vantaggi e svantaggi diversi però diciamo che in realtà l'ancoraggio sottocutaneo adesso lo preferiamo perché ha 5 vantaggi almeno 5 vantaggi rispetto alla cuffia prima di tutto è più facile mettere un catetro nel cuffiato che un catetro cuffiato per motivi proprio di impianto tecnici che non vi sto a raccontare una volta che metti un catetro cuffiato la stabilizzazione non è immediata perché la cuffia ha dei peluzzi di dacron che sarebbe il politilene teraftalato che prima di fare presa sul sottocutio circostante ci mettono qualche settimana quindi nel frattempo bisogna metterci qualche altra cosa invece stabilizzarlo con qualche altra cosa mentre invece quando si fa una stabilizzazione con coraggio sottocutaneo la stabilizzazione è immediata fin dal momento dell'impianto un altro vantaggio è che se ci sono delle complicanze della cuffia bisogna togliere il catetro sempre se sono complicanze dei dispositivi di ancoraggio sottocutaneo si toglie i dispositivi di ancoraggio sottocutaneo si lascia il catetro senza ancoraggio e poi lo si rimette e si rimette il dispositivo di ancoraggio sottocutaneo nuovo poi alla fine se ci deve rimuovere il catetro di cuffiato prevede un piccolo interventino l'ancoraggio sottocutaneo si sfila e via e poi a tutto questo il costo è anche inferiore orbene un'altra considerazione è quella dell'invasività ci sono pazienti che possono avere grossi problemi di tipo coagulativo in cui mettere un pic è meno pericoloso che mettere un catetro centrale a questo punto si potrà o andare senza tunnel oppure andare con tunnel il tunnel però ormai lo mettiamo quasi sempre c'è una larga in realtà c'è una larga letteratura se andate a vedere la tutela scientifica sull'utilizzo dei pic anche non tunnelizzati per parenterare però il fatto di mettere la tunnelizzazione sensualmente è una cosa che non costa niente che non è pericolosa dal punto di vista diciamo della manovra e che aggiunge qualche cosina in più perché il fatto di avere l'assidore di puntura qui quella vena cioè il catetere praticamente entra nella vena a questo punto e un piccolo tratto sottocute del catetere fa sì che eventuali germi che entrano in questa zona ci mettano del tempo prima di arrivare alla vena e quindi possono essere combattuti efficacemente dalle difese naturali dell'organismo questi invece sono dei cic vedete cicchi di vario tipo questo è un cic non tunnelizzato che però non si utilizzerà per parenterale questo è un cic con una tunnelizzazione e questo è un cic un po' particolare con una lunga tunnelizzazione verso il braccio abbiamo scoperto che molti pazienti che hanno fatto un'azione parenterale per molto tempo con un pic si sono abituati a ormai avere il pic al braccio ed effettivamente il pic al braccio ha dei vantaggi per il parenterale domiciliare anche del svantaggio ovviamente ma anche il vantaggio che se uno si vuole fare la doccia come mentre un catedre di questo tipo che sta qua sopra è imbarazzante quando uno vuole farsi la doccia e ha un pic al braccio può tranquillamente mettersi una copertura non dicono copertura di quelle che si trovano che costa eccetera eccetera però indubbiamente basta anche un domopac ad esempio tutto nel braccio uno si fa la doccia tranquillo e quindi qualche volta se poi il paziente ci richiede espressamente di far uscire le catedre al braccio è possibile pungere qua sopra e farle uscire il catedre qui tenete presente che poi se il paziente qualche volta preferisce invece un centrale perché avendo tutte le due mani libere può gestirselo da solo però è anche vero che ci sono tantissimi pazienti che grazie a delle pronunche adeguate riescono a gestirsi anche con due mani un catedre messo in una delle due braccia questi sono ancora esempi di tonalizzazione puntura qui il catedre esce da qua sopra puntura qua catedre esce da qua sotto e poi questi sono alcuni esempi che vi piacevo vedere di catedre invece non tonalizzati o tonalizzati che escono dalla coscia che però riguardano più che altro persone che devono fare della parenterale a casa o in hospice che sono anziane o allettate questo tipo di sistema è anche molto vantaggioso per i pazienti che non sono come dire composui che non sono collaboranti che tendono a stapparsi qualsiasi cosa nel momento in cui mettete un catedre per una terapia domiciliare che fuoriesce dalla coscia così poi a casa il paziente si porta dei pantaloni del pigiama o anche dei pantaloni eccetera eccetera non riuscirà a stapparsi il sistema e l'altra alternativa è quella dei porte abbiamo detto questi sono tre esempi di pig port il pig port è entrato in voga diciamo così da diversi anni oramai noi primi qui l'abbiamo messo 15 anni fa e hanno preso il sopravvento nel senso che oramai il nostro ospedale mette qualcosa tipo 2500 port all'anno e almeno 1800 sono pig port cioè porte brachiali porta a braccio le complicanze sono esattamente le stesse di un port messo al torace il vantaggio è di avere qualche cosa che nel momento in cui le metti è incredibilmente meno pericoloso meno in basilico questi sono esempi di porte femorali che però non si usano di solito per l'entrata domiciliare e poi vediamo un po' non c'ho una figura del porto toracico ma la conoscete l'impianto c'è una domanda vogliamo fare un attimo di pausa un po' di domande forse vi interessa più la gestione però fino a questo punto avete delle domande Alessandra ho preso appunti e qualche domanda perché è vero che forse la gestione è quella che ci riguarda di più ma invece volutamente ti ho chiesto appunto questa parte di presentazione sulla scelta dei dispositivi eccetera perché intanto credo che sia importante nell'ottica di una collaborazione di una partecipazione del paziente alla scelta dei presidi e al dialogo con l'impiantista proprio scusa ecco proprio perché ritengo che un paziente maturo diciamo consapevole abbia anche alcune competenze per scegliere insieme al medico il presidio sulla base appunto di vita della sua autosufficienza o meno della disponibilità per esempio oggi tu hai detto un paio di cose su cui che mi hai chiarito un po' le idee no tu dici per esempio che i pazienti preferiscono l'impianto nel braccio sicuramente con le prolunghe questo è gestibile io questa scelta qua l'ho sempre trovata abbastanza discutibile nel senso che limita di molto l'autosufficienza del paziente nella gestione no facilmente chi ha il dispositivo nel braccio necessita di assistenza per la gestione e questo è una cosa che ho verificato considerato anche parlando con altri pazienti un'altra cosa che tu hai dato abbastanza per scontato e che invece per esperienza personale e anche degli altri pazienti invece purtroppo non è ancora così diffusa la tunnelizzazione sicuramente da voi è una pratica ormai comune sicuramente appunto però da esperienza mia e da esperienza di altri pazienti in realtà non è così frequente il fatto che venga tunnelizzato il PIC perché è che questo con tutte le diciamo le problematiche che questo comporta principalmente di stabilità certo due belle osservazioni per quanto riguarda la prima sai non ci sono risposte che valgono per tutti su internet potrai trovare dei filmati specialmente anglosassoni di gente col PIC che grazie alla prolunga si autoggestisce benissimo anche il PIC sicuramente la prolunga non può essere un fattore di rischio per le infezioni o aggiuntivo no se la prolunga viene fatta viene gestita meno adeguata le stesse precauzioni che tu usi per connettere la sacca alla prolunga le avrai per quando attacchi la sacca direttamente al catetere anzi la prolunga sembra il catetere quindi da questo punto di vista sicuramente no quello che succede è che qualche volta invece uno può essere infastidito al fatto che la prolunga si è troppo lunga mentre invece altre volte uno può vedere il vantaggio del PIC come dicevo nelle igiene personale ad esempio non solo in igiene personale ma anche nella vita di tutti i giorni come sai ci sono adesso dei manicotti che fanno il vuoto aderenti che eccetera con cui il paziente può anche nuotare pur avendo un catetere esterno però a patto che questo sia il braccio così come facendosi una doccia o un bagno eccetera è possibile isolare completamente il braccio facendo un dropping diciamo intorno al braccio e così via mentre invece per chi ha un catetere sul torace le cose diventano un pochino più complicate cioè non è che puoi farti un avvolgimento di tutto il torace per cui ci sono dei pro e dei contro secondo me la cosa importante è che il paziente abbia molto ben chiaro queste prove e contro tu dicevi che il paziente deve essere informato con reso consapevole e coinvolto nella scelta ma questo è già previsto da tutte le linee guida poi recentemente poi se non viene fatto è un problema però ad esempio io recentemente poco prima di Natale sono stato a una a una consensus internazionale mondiale se posso dire questo termine in quel di Singapore dove fra l'altro parlando si parlava in realtà del paziente oncologico parlando della scelta del dispositivo del paziente oncologico che sta a casa si faceva notare come in realtà ci devono essere almeno quattro quattro attori in questa commedia quattro stakeholders come si dice in inglese quattro personaggi che devono dire la propria e che devono concordare il primo personaggio è quello che è il committente come si chiama cioè il medico curante che dice qui io ho bisogno di un accesso dispositivo accesso venoso per un periodo di questo tipo per fare questa cosa eccetera il che può essere importantissimo dicevo io probabilmente sto parlando non lo so a un gruppo di persone che hanno tutti i catetri monolume ma vi sono delle inuzioni per l'entrata domiciliaria fatti per pazienti neoplastici o per pazienti neurologici che hanno anche delle altre esigenze di terapia endovenosa che non sono prelenterale in cui magari c'è bisogno del bilume e chi è che me lo sa dire me lo sa dire soltanto il committente cioè quello che mi ordina che fa l'ordinazione del dispositivo accesso venoso la seconda figura ovviamente è il tecnico l'idraulico il sottoscritto quello che lo deve impiantare perché il sottoscritto l'impiantatore è quello che oggi grazie all'ecografia soprattutto verifica quello che è il patrimonio del paziente vede dove ci sono trombosi dove non ci sono trombosi dove ci sono delle problematiche cutanee di qualche tipo vede dove ci sono delle anchilosi delle paresi cioè alla fine una delle persone più importanti che deve decidere come e dove si mette il catetere è sicuramente il tecnico che ha il know-how di quelle che sono le problematiche dell'impianto stesso la terza persona ovviamente è il paziente stesso che come dicevamo può avere delle esigenze personali anche molto speciali a me è successo di dover trovare una soluzione riguata in pazienti che avevano il busto e recentemente mi è capitato una paziente che suonava il fagotto ecco suonando il fagotto il fagotto è uno strumento un ottone uno strumento affiato anzi un legno credo che sia è uno strumento affiato che bisogna portare a tracolla e la tracolla fa tutto un percorso particolare per cui se tu hai qualche cosa a livello toracico tipo un po' toracico eccetera che finisce in quella traditore una medicazione toracica ti dà enormemente fastidio quindi bisogna andare preferimente a braccio il controfagotto in realtà invece c'è un treppiede questo ho detto per chi è esperto di musica oppure un esempio di un paziente che abbia delle particolari non abbia particolari necessità di gestirsi da solo perché ha un buon caregiver o ha i genitori o quant'altro in cui alla fine vede più il vantaggio che se c'è qualche cosa al braccio se lo fascia il quarto personaggio che ha voce in capitolo è appunto il gestore il caregiver o l'infermiere o il medico che gestisce la cosa perché anche quello deve essere messo in condizioni di fare una gestione che sia il più efficace possibile il più semplice possibile quindi è già a livello internazionale più o meno codificato che la scelta viene fatta da questo quartetto di personaggi sperando che tutti e quattro sperando che tutti e quattro siano presenti siano capaci di intendere di volere e siano non dico intelligenti perché ormai l'intelligenza è un po' in via di estensione ma almeno dotati di un forte buon senso io ti ho chiesto questo Mauro proprio perché io credo che la consapevolezza dei pazienti quindi la conoscenza di quelli che sono anche i criteri che voi utilizzate nella scelta del presidio ci dia anche gli strumenti per difenderci per difendere i nostri presidi da alcune scelte che magari non hanno nessun fondamento scientifico ma che si è sempre fatto così tu sai bene quanto esiste e si è sempre fatto così certo ci sono scelte ma ancora peggio non solo si è sempre fatto così che alla fine è una dimostrazione di pigrizia mentale e di medicina medico-centrica anziché pazientocentrica perché alla fine poi il paziente deve stare al centro di tutto e quindi devi pensare non su quello che ti piace fare a te o ti sei incapricciato di fare ma su quello che tecnicamente sulla base delle conoscenze scientifiche internazionali che anche se cambiano è quello che teoricamente dovrebbe essere meglio per il paziente ma a volte è anche un problema di know-how di competenza cioè uno che non abbia mai fatto una di materiali esatto oppure di disponibilità di materiali facciamo prima il primo esempio una persona che non abbia mai tunnelizzato e una volta che sappia mettere soltanto il pic che non sappia mettere il chic o il fic o il porte eccetera chiaramente metterà il pic a tutti c'è un bel proverbio americano che dice when your only tool is a hammer every problem looks like a nail che significa in italiano quando il tuo unico strumento è un martello tutti i problemi assomigliano a un chiodo se tu sai fare una cosa sola nella vasta nel ventaglio di possibilità di mettere accessi minose se tu ne sai mettere in una sola tipologia chiaramente tu metterai sempre quella qualche volta ci azzecchi per caso che è esattamente il catetere che fa per quel paziente certe volte metterai dei catetere che per quel paziente non sono appropriati questo è il problema e il vantaggio io penso che più si tratti parla di pazienti o molto delicati o di dispositivi che devono stare per moltissimo tempo tanto più ci vuole una competenza speciale da parte non dico di un singolo operatore ma almeno di un team di operatori che rappresentano tutti insieme tutte le competenze possibili per mettere qualsiasi cosa perché bisogna adattarsi certe volte noi lo sottoportiamo ma proviamo a immaginare che tu vedi in un ospedale pediatrico dove sai mettere soltanto il pic a un paziente che meriterebbe sicuramente un cicatonezzato e tu se dovessi spiegare ai parenti nessuno dice onestamente io so fare solo questo metto soltanto questo ma se ci fosse a un certo punto un siero della verità che viene fatto bere all'operatore l'operatore dovrebbe dire guardi secondo le linee guida ci sono molte opzioni probabilmente anche più vantaggioso mio sommetto soltanto il pic quindi a vostro figlio metto soltanto il pic a questo punto il genito ti crocchiano si incazzano ma come allora me ne vado in un altro ospedale il fatto è che purtroppo di persone di team di operatori che hanno dei team di limitata competenza ce ne stanno devo dire che questo è successo particolarmente negli ultimi anni anche in Italia dove si sono creati molti team magari monodirezionali monoprofessionali monodisciplinari mentre invece il team di operatori per un processo vascolare il vascular access team come si dice in inglese il VAT dovrebbe essere in teoria multiprofessionale e con molte competenze questa è la cosa l'altro aspetto come dicevi tu come mi anticipavi tu è la disponibilità di materiali la disponibilità di materiali però è legata anche a questo in qualche modo alla buona volontà e alla competenza dei lavoratori tu sai che nel profilo professionale nel del medico dell'infermiere a un certo punto nel codice deontologico proprio del medico dell'infermiere in entrambi i codici c'è scritto a un certo punto il medico o da buon professionista il medico o l'infermiere per il codice deontologico dell'infermiere è un professionista che cerca di migliorare sempre l'assistenza cercando di procurare per il paziente quelli che sono i dispositivi le metodologie più adatte più sicure più appropriate d'accordo? Ebbene questo i miei colleghi molto spesso se lo dimenticano nel senso che molto spesso uno dice oh io qui in ospedale c'ho soltanto il silicone mi passano solo il silicone e ti metto il cadere nel silicone che non è una cosa ammissibile dal punto di vista di deontologia professionale se tu ritieni che quello non sia il dispositivo migliore tu devi purtroppo rompere i coglioni all'ospedale fino a che motivando ovviamente la tua scelta finché l'ospedale non ti trova e non ti procura quello che serve il discorso in maniera molto più fattiva e questo le associazioni credo che siano uno strumento molto valido a supporto dell'attività del medico purché il medico abbia questo tipo o dell'infermiere purché il medico o l'infermiere abbiano questa disposizione e questa volontà di andare un po' contro io mi sono sentita dire alcune volte di fronte all'evidenza di un diritto di prodotti o di servizi per i pazienti ma io non posso mica scutare nel piatto in cui mangio ti viene un po' la pelle d'occa pensando che questo è invece è proprio il nostro codice denotologico che ci dice che non dire che dobbiamo spurtare il piatto che mangio bisogna un certo rispettare l'azienda per cui si lavora ma il codice denotologico dice a un certo momento proprio apertamente dovete essere rompicoglioni perché se un professionista non è un rompicoglioni viene meno a una delle sue caratteristiche più fondamentali che quella di cercare migliorare l'assistenza e questo vale ad esempio nei centri dove si tunnelizzano magari picche ma non hanno il securacat non hanno l'ancoraggio sottocutaneo devo dire che mi è fatta venire in mente quella tua osservazione dell'importanza di associazione ai pazienti mi ricordo che quando dieci anni fa i lancoraggi sottocutani erano ancora dati centellinati dalla nostra farmacia soltanto in pazienti che proprio si era già strappato tutto allora la volta successiva l'immettiva l'ancoraggio sottocutaneo erano poco disponibili e mi ricordo che un'associazione dei pazienti oncologici qui della ginecologia oncologica dei gemelli aveva fatto tutta una levata di scudi a favore del prodotto adesso la cosa non c'è più bisogno perché è un prodotto che ormai riusciamo a ottenere sempre e dappertutto in tutti i casi almeno nel nostro pedale in tutti i casi in cui serve quindi diciamo questo volevo chiederti una cosa perché scusa se ti ho interrotto però era proprio un altro dei punti che mi sono segnata il secure cut che diciamo io ho visto che da voi lo utilizzate sempre di più viene utilizzato spesso anche in pediatria la mia personale esperienza con il secure cut non è positivissima nel senso che è doloroso e fastidioso rispetto ad altre possibilità di fare il catetere e anche alcuni genitori che magari avevano avuto un primo catetere senza il ragno come lo chiamiamo noi hanno notato che si infiamma facilmente se hai una vita attiva o i bambini che si muovono molto facilmente si lesiona la cut dove c'è l'ancoraggio eccetera allora io mi chiedevo se poi ho visto che voi fate sia la tunnelizzazione che l'ancoraggio spesso invece io l'ho visto utilizzare invece della tunnelizzazione sono due cose diverse la tunnelizzazione protegge dalle infezioni l'ancoraggio è un sistema di stabilizzazione come la cuffia ma anche la cuffia di per sé non protegge dalle infezioni la cuffia è quindi protegge dalla dislocazione come l'ancoraggio sottocutaneo anche qui però sia la cuffia che non esiste ancora una risposta assoluta io ti dico che stiamo utilizzando più l'ancoraggio sottocutaneo perché vediamo più vantaggi che svantaggi l'ancoraggio rispetto alla cuffia però è anche vero che dipende da come lo metti così come se tu metti la cuffia la metti troppo vicina al sito d'emergenza nel giro di qualche settimana o di qualche mese verrà sputata fuori la cuffia dovrebbe essere almeno due centimetri e mezzo dentro il 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 tunnel alla stessa maniera se tu l'ancoraggio sottocutaneo lo metti troppo superficiale oppure non controfissi il resto dell'alletta eccetera con un'adeguata medicazione trasparente oppure con uno statolo in più eccetera per evitare le sollicitazioni meccaniche il paziente avrà dolore e anche qui cambia da paziente a paziente e anche della zona delle colpe in cui l'ha messo mediamente viene tollerato molto meglio sempre a livello del braccio l'ancoraggio sottocutaneo che a livello della coce eccetera e la stessa cosa per la cuffia ancora se la cuffia è troppo superficiale prima o poi decubiterà per cui non c'è una risposta assoluta anche se mediamente ti dico che noi stiamo vedendo dei vantaggi molto maggiori i cateteri cuffiati alla fine si dislocavano lo stesso e la dislocazione è molto molto ridotta specialmente nei bambini da quando usiamo l'ancoraggio sottocutaneo anche lì però bisogna istruire il caregiver o l'infermiere che lo gestisce a essere molto delicato quando si cambia la medicazione perché una medicazione la cambia strattonando e purtroppo con l'ancoraggio sottocutaneo viene voglia di farlo purtroppo e a questo punto ci può essere dei danni ti faccio un'ultima domanda poi così andiamo avanti ti chiedo scusa ma c'avevo questi quattro punti poi magari c'è anche qualcun altro che vuol chiedere qualcosa io non ho visto altre mani alzate come mai viene ancora così demonizzato l'accesso infemorale tunnelizzato nella coscia io tutte le volte tu sai che io ho questo tipo di accesso me l'hai fatto tu e ti ringrazierò per tutta la vita perché per me è in assoluto quello più comodo da gestire con il problema della doccia come dicevi tu perché purtroppo non c'è lo stesso tutore che c'è per il braccio anche per la coscia per una questione di dimensioni l'altro ieri però al Boccova ho visto che c'è una ditta che ha cominciato a fare dei dei ropper fatti apposta delle dimensioni della coscia wow se mi fai avere il nome mi verrebbe benissimo è un mio amico francese Alain qualche cosa che ha una una ditta che si ha preso tutti gli estremi la mia moglie che stava con me che si occupa di accessi venosi come me e te le farò avere grazie e allora c'è una una bad press anzi in spagnolo si direbbe una leyenda nigra sulla femorale legata a una misconcezione una misinterpretazione della regione delle complicanze è vero che il vecchio accesso femorale in femorale comune che usciva dal linguine era sicuramente gravato da complicanze infettive enormi da complicanze trombotiche enormi ma le complicanze effettive trombotiche non erano legate alla femorale di per sé alla povera vena femorale ma erano legate al sito dell'emergenza è certo questo fatto che il sito dell'emergenza all'inguine fosse diciamo così gravato l'infezione trombosi e ci sono dei motivi chiari perché l'infezione ovviamente perché se il catetere non tonnellizzi stai in una zona particolarmente umida velosa e contaminata da batteri e per quanto riguarda la trombosi il fatto che più il catetere è mobile più fa trombosi tant'è vero che i cateti che furiescono dal collo fanno più trombosi di quelli che furiescono nella zona sottoclaveare i pic che furiscivano una volta al piega del gomito facevano molto più trombosi dei pic di oggi che invece furiescono metà braccio però non è stato visualizzato questo e quando si è cominciato a tonnellizzare o addirittura appungere talmente la metà coscia si è pensato ah è la femorale beh la femorale allora fa trombosi a me mi guardano come se fosse una rediviva quando dico che ho il catetere in femorale ti guardano immediatamente come paziente terminale cioè ce l'hai per poco addirittura quando mi avevi messo tu il primo femorale che poi ero stata ricoverata mi avevano addirittura era stato uno dei motivi per cui mi avevano proposto il trapianto perché ah se ormai hai il catetere in femorale ti do il 30% di possibilità di sopravvivenza questo fortunatamente 11 anni fa perché una volta era un'ultima spiaggia e si pensava che era un catetere gravato la complicanza in realtà stavo dicendo abbiamo fatto uno studio recentemente da quale è venuto fuori che l'incidenza di infezioni di trombosi è esattamente identica a quella dei PIC identica quindi non infatti io mi trovo benissimo tra l'altro è comodissimo da gestire guarda ti farò vedere anche la nota di questo tizio che ha cominciato astutamente perché ha visto che si usa sempre di più il femorale ha cominciato a fare queste come possiamo queste protezioni che sono adattate al diametro della coscienza che al diametro del bicicleta fantastico finalmente rifaccio il bagno in amare eh sì beh comunque esiste sempre quei sistemi fatti in casa tipo domovac eccetera sì sì io sull'impianto andrò molto veloce vi dico semplicemente che l'impianto deve essere fatto soprattutto da persone competenti in un ambiente adeguato l'ambiente dell'impianto sostanzialmente deve essere oggi quello di una sala procedura tutti i catetri a nutrizione parentale domiciliare sono i catetri a lungo termine e per lungo termine eh si deve fare una sala procedura attrezzata non è detto che sia una sala operatoria che sia una sala radiologica anzi in passato ci sono alcuni pazienti che hanno messo dei catetri in sala operatoria e sala logica con degli effetti come dire eh negativi in termini di infezioni perché se tu hai una sala radiologica che tu utilizzi eh per mettere fare il drenaggio dell'ascesso la prima parte della mattina la seconda metà della mattina lo utilizzi per mettere dei catetri di tonalizzati cuffiati o dei porti chiaramente questi disinfetteranno perché la zona non è pulita il fatto di utilizzare sala radiologica è relegato all'utilizzo della fluoroscopia che oggi non ha più nessun ruolo nel posimento accessi venosi se un gruppo di operatori è antiquato oppure no lo si capisce anche semplicemente chiedendoli oppure li mettete con fluoroscopia se quelli dicono sì le mettiamo in fluoroscopia a questo punto conviene andare altrove per coltire persone che non si sono aggiornate negli ultimi 10-12 anni quindi diciamo che per quanto riguarda l'ambiente tutti coloro tutti i pazienti che sono stati destinati ad un'azione domiciliare devono andare in una sala procedura la sala procedura significa una sala operatoria semplificata ma adibita esclusivamente a quello adibita esclusivamente a manovre pulite ovviamente la sepsi appropriata e tutti i cateti a lungo termine vennero messi con l'adeguata disinfezione della cute con il clora con le adeguate protezioni e le masse di protezione in barriera quindi le camice eccetera ma questo è una cosa abbastanza acclarata la tecnica di venipuntura deve essere sempre e comunque quella che prevede l'ecoguida però devo dire che questa è stata una delle battaglie penso quasi vinta dal Gaves sono 20 anni che facciamo una testa così a tutti quanti dicendo che bisogna usare la puntura ecoguidata ormai la puntura ecoguidata fa parte dei must diciamo così delle cose inevitabili dal punto di vista anche legale vi ricordo che con la nuova legge gel bianco in realtà tutte le volte che c'è un litigation un contrasto eccetera eccetera quello che fa fede non è l'esperienza dell'operatore ma soprattutto il fatto che l'operatore si sia adeguato a quelle che sono le linee guida internazionali e la buona pratica clinica internazionale e tutti i testi che fanno di buona pratica clinica del cesto venoso e tutte le linee guida internazionali ormai dicono sempre che bisogna pungere senza se senza ma con l'ecoguida e preferimente con anche dei kit di microintroduzione che riducono il dolore riducono il rischio di danni riducono il rischio murragico e così via l'altra cosa poi importante diventa importantissima per i catetri a lungo termine per parentale domiciliare è che il gruppo di operatori utilizzi un sistema accurato e sicuro per vedere che la punta sia in posizione centrale una volta si faceva occhio poi si faceva il controllo idrologico oggi si sa che bisogna evitare la ufoloscopia ci sono delle tecniche di tip location e di tip navigation non sto entrando nel dettaglio che sono sostanzialmente le cg intra cavitario e l'ecotip l'ecotip significa che oggi controlliamo la posizione della punta utilizzando un'ecocardiografia semplificata prima di venire qua due ore fa mi hanno mandato ad un altro ospedale una paziente che doveva mettere urgentemente un accesso al venoso centrale e era un accesso centrale probabilmente che si terrà anche a casa un accesso centrale lungo termine per vari motivi non si poteva fare l'ecg perché la paziente era una paziente fibrillante con dei ritmi cardiaci stranissimi e abbiamo verificato la posizione al punta tramite queste tecniche di cocardio che vedono il catetere direttamente oppure lo vedono come una come bubble test cioè facendo delle infusioni rapidi di liquido che si vede uscire dal punto del catetere l'importante è che oggi non si utilizzi più la la fluoroscopia che è molto 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 imprecisa quindi in sostanza i dispositivi per accesso venoso per un'azione per la trame miciliare sono dispositivi a lungo termine e in questi la tip location deve essere un'importanza fondamentale cioè l'accesso deve avere la punta in una zona che secondo le ultime linee guida deve essere o l'aggiunzione cavatriale tra cava superiore o atrio o subito sopra o subito sotto nell'eccezione che succede qualche volta il catetere sia in femorale la punta del catetere in femorale deve essere posizionata nella cava sotto diaframmatica al di sotto le vene epatiche e l'altro problema è il fissaggio che bisogna scegliere un punto in emergenza pulito e stabile e in questo la tunnelizzazione è molto molto utile perché la tunnelizzazione ti permette a prescindere qualsiasi il sito di venipuntura fa portare l'uscita del catetere nel punto che sia più facile per il catetere e personalmente detto per i catetere esterni oramai preferiamo l'ancoraggio sottocutaneo nei bambini nelle situazioni nell'alto rischio di esogazione in cui rientrano anche i bambini e nelle parenterali lunga durata e nelle parenterali domiciliare ma ovviamente mai nessuno utilizza più i punti di sutura l'alternativa all'ancoraggio sottocutaneo è soltanto quella di utilizzare un catetere cuffiato detto fra parentesi una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima che invece utilizzare l'ancoraggio sottocutaneo in un catetere cuffiato è un errore perché il fatto di avere l'infiammazione chimica sterile che però potrebbe diventare batterica della cuffia e insieme a due centimetri tre centimetri di distanza l'infiammazione chimica sterile ma che può diventare batterica dell'ancoraggio sottocutaneo è una situazione pericolosa c'è un doppio rischio che possa avvenire una complicanza infiammatoria questi sono sistemi ad attività cutanea e questi invece sono sistemi di ancoraggio sottocutaneo e l'altra cosa importantissima che noi facciamo sempre almeno al momento in cui mettiamo è proteggersi d'emergenza con due strategie che sono la colla e le membrane trasparenti la colla ormai la mettiamo sempre dappertutto però la colla è un problema soprattutto dell'impianto la colla serve per evitare che ci sia sanguinamento via le 24 ore eccetera successiva all'impianto diciamo che in linea generale alla fine la colla serve soprattutto per l'impiantatore nessuno ha mai dimostrato che rimettere la colla a distanza di tempo possa ridurre il rischio infettivo anche se qualcuno la utilizza però sempre nei catetri non tunnelizzati dato che parto dal principio che i catetri per vetrare domiciliare siano sempre tunnelizzati in qualche modo il fatto di rimettere la colla ogni volta può essere una ridondanza nel senso che la contaminazione batterica è già tenuta già ridotta dall'atumalizzazione senza che bisogna mettere anche la colla per ridurre ulteriormente l'atumalizzazione poi alla fine l'impianto anche qui dipende dalla competenza ormai esistono dei protocolli molto specifici di come si mettono i pic di come si mettono i porte eccetera e il ruolo dell'impiantatore è grosso perché un impiantatore che fa le cose fatte male può provocare delle complicanze al paziente anche a distanza di tempo ad esempio vi sono alcune infezioni che avvengono nella prima settimana o nelle prime due settimane che sono legate alla mancata utilizzazione delle strategie adeguate quando si è messo il catetri tu il catetri potrai mettere anche in maniera fantastica dal punto di vista tecnico ma se non ti sei lavato prima le mani in maniera adeguata hai fatto un igiene chirurgico le mani prima di impiantare prima di avere il paziente se non hai usato la cloroxidina in alcol se non hai usato le masse di precauzione di barriere eccetera il paziente una settimana dopo si fa un'infezione che non sarà natural cosa ma sarà dovuta a errate strategie usate dall'impiantatore ancora più tipico è la trombosi venosa la trombosi venosa noi pensiamo che sia qualcosa che succedendo una settimana due settimane dopo o tre settimane dopo non ha niente a che fare con l'impianto invece tutte le strategie che riducono il rischio di trombosi guarda caso sono nelle mani dell'impiantatore perché la trombosi spesso succede perché si è messo un catetri troppo grosso e non è nato un po' piccola le raccomandazioni attuali internazionali anche i gaffi raccomandano di scegliere una vena di un diamo di interno pari almeno di un diamo di interno del catetere in maniera tale che ci sia un mantenimento del flusso e che il catetere non ostruisca di per sé la vena e questa è una cosa che lo decide l'impiantatore non solo si è visto che la trombosi che anche capita poi a distanze due settimane è più frequente quando l'impiantatore ha punto e ripunto e ripunto parecchie volte la vena prima di uscire a beccarla ed ecco quindi che la bravura impiantatore anche di usare gli ultrasuoni l'ecoguida riducono la trombosi venosa e questa è una strategia che usa un momento dell'impianto idem una posizione della punta inappropriata ad esempio ottenuta tramite una lastra radiologica la fluoroscopia eccetera e qui vede approssimativamente che la punta è da quelle parti ma non potrebbe andare alla sicurezza che dà l'elettrocardiografia o l'ecocardioscopia è una fonte di trombosi e così anche il catetere mal fissato ad esempio il catetere che esce appunto in una zona instabile è una fonte di trombosi per togliere questa parte molto rapida legata all'impianto diciamo le migliori opzioni per l'impianto sono che sia fatto da un gruppo di persone competenti che usano dei bundle adeguati sempre l'impianto ospedaliero l'impianto domiciliare si può fare ma in casi molto selezionati in una sala procedura utilizzando sempre l'ecoguida utilizzando sempre una tipolocation che non sia radiologica ma più accurata che la radiologica schissando bene il catetere e proteggendolo l'impianto a domicilio questo dicevo l'abbiamo fatto qualche volta si fa però in casi molto molto selezionati e di solito non per i pazienti con l'inuzione parenterale a lungo termine di patologia benigna qualche volta siamo andati a rimpiantare dei catetere che si sono tolti per complicanze a casa in pazienti neoplastici in gravissime condizioni generali che erano impossibilitati al trasporto in ospedale o magari nell'ospedale di personale esperto in materie appropriati adesso rendono più facile questa manovra ma vi ripeto è una manovra che si fa qualche volta del riposizionamento di carcessi per parenterale in pazienti molto 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 scassati per malattie neoplastiche tipicamente o malattie neurologiche gravi e che stanno in parenterale domiciliare per tempi molto limitati di tempo Alessandro Allora intanto ti ringrazio per tutte queste informazioni in modo che avremo modo tutti di avere almeno un'idea una valutazione dell'equip che a cui ci affidiamo perché tante volte non abbiamo gli strumenti come pazienti per dire ma sì questi lavorano bene posso andare a occhi chiusi diciamo oppure magari non hanno la strumentazione e l'organizzazione idonea e su questo appunto credo che la collaborazione con alcuni centri più qualificati e la collaborazione tra pazienti e associazioni sia preziosa per tutti nel senso che qualora ci siano delle segnalazioni di ospedali o ambulatori dove le pratiche di impianto non vengono fatte in maniera adeguata è anche compito delle associazioni di sollecitare la direzione perché vengano adottate le misure adeguate gli strumenti adeguati per garantire ben detto ben detto non è che uno dice questo l'ha detto Bitti Rudi no io mi sto riportando quelle che sono le linee guida internazionali esatto io ho avuto esperienza diretta di situazioni di questo tipo in cui io ho proprio detto no guarda che le linee guida dicono così e quindi parliamone discutiamone però vorrei che vi assumeste la responsabilità di andare contro le linee guida quando tu parli di responsabilità c'è sempre il coltello dalla parte del manico diciamo è vero la gente si spaventa ma d'altra parte è anche vero che la maggior parte delle persone che commettono dei breakthrough che non si adeguano a quelle raccomandazioni internazionali di solito non lo fanno per buona causa ma lo fanno semplicemente per incompetenza per pigrizia per velocità e devo dire che siamo tutti esseri umani anche io l'ho fatto in passato mi rendo conto che ho fatto gli errori certe volte in certi pazienti pur sapendo le cose pur essendo ultracompetente anche a volte per la fretta il pensare che hai il dispositivo migliore ma ce lo hai nell'altra sala procedura che devi chiamare qualcuno farlo mandare a prendere eccetera uno vi dice ma no ma chi se ne frega facciamo così almeno guadagniamo tempo che è una pessima politica quando si tratta di fare qualche cosa che invece è importante per il paziente purtroppo guarda comunque non sono io che tiro la prima pietra perché a tutti noi è capitato e forse anche non medici in alcune anche in altre professioni di prendere decisioni legate più che al tornaconto personale che poi nessuno è così la scelta più facile del momento più facile del momento esatto per motivi di sofferenza di fretta o qualche altra cosa questo è sempre un pericolo per il professionista però io credo che appunto io ci credo molto in questo percorso di consapevolezza dei pazienti perché credo che aiuti anche il professionista a focalizzare il fatto che sta lavorando su una persona l'atteggiamento passivo del paziente che tanto è una roba che riguarda il medico quello che fa su di me e poi io ne pago le conseguenze a volte appunto facilita questa forma di pensiero che è naturale e umana se invece sono io paziente che chiedo al medico un confronto una spiegazione comunque in un certo senso lo costringo a riflettere su quello che fa a darmi delle motivazioni delle spiegazioni e quindi a portare attenzione al fatto che non è solo una procedura ma è una procedura su una persona e questo credo che sia importantissimo ricordarlo non come giudizio ai medici ma proprio perché siamo tutti esseri umani anche i medici e gli impiantisti assolutamente consapevoli e questo è particolarmente vero nei pazienti in uscione planetorale domiciliare per periodi illimitati per patologie penigne che acquisiscono a un certo punto non soltanto una consapevolezza importante dei propri diritti ma anche una conoscenza in qualche modo di cosa è meglio certo passiva che è incredibilmente superiore a quella del paziente che si trova in una situazione acuta che probabilmente finirà dopo due settimane dopo l'intervento eccetera il paziente che rimette un catetere dopo l'intervento probabilmente non sta lì a pensarci molto la prima volta che lo fa non è mai successo niente del genere è una cosa che vede limitata nel tempo in quella situazione acuta il paziente invece che deve convivere con un accesso per mesi e anni ha tutta un'altra consapevolezza specialmente se ha avuto esperienze molte ripetute e ha potuto fare dei confronti tra diverse tipi di metodologie su questo poi magari faremo un incontro ma volevo chiederti magari faremo un incontro specifico con un infettivologo ma su questo volevo chiederti anche una una specifica di indicazione rispetto a una procedura che vedo che ancora si fa fatica a far accettare che è diciamo l'evitare la sostituzione frequente dei cateteri cioè io con te ho avuto esperienza del fatto che in cui in altre strutture mi è stato detto si sostituisce si sostituisce tu lo sai io sono arrivata da te dopo aver cambiato 20 e più accessi venosi e questo ha avuto delle conseguenze notevoli sul mio albero venoso ora probabilmente fossi stata più consapevole adesso non me lo lascio toccare finché non mi dimostrano che non riescono a togliermi una sepsi piuttosto che sono sempre spesso io che dico no ma prima proviamo a fare una lock therapy poi proviamo però c'è ancora forse anche per questo modo di scegliere la via più facile tolgo il problema sì è vero Alessandra però ormai è un errore da penna blu come avrei detto il mio professore di greco che è un errore che fanno ancora in pochi ormai cioè il fatto di pensare che un catetere vada a sostituire praticamente è una stronzata colossale l'unico catetere l'unico dispositivo accesso venoso che è veramente viene tolto dopo un certo tempista un certo numero di giorni è il catetere viene osombelicale nel neonato e basta tutti gli altri accessi venosi che esistono nel neonato nel bambino nell'adulto lungo termine non devono essere mai sostituiti in maniera programmatica ci sono soltanto quattro motivi per togliere o sostituire un catetere primo quando il catetere non è più utile e lo si toglie perché non è più utile ecco un altro discorso secondo quando il catetere è sede di una complicanza che richiede la rimozione come tu sai ci sono complicanze che non necessariamente richiedono la rimozione ad esempio una trombosi da catetere molte volte viene trattata e viene trattata con successo in maniera anche protogia di solito abbastanza innocua senza bisogno di cambiare catetere terzo quando il catetere è rifiutato dal paziente allora a quel punto il paziente che la volontà del paziente non può essere messa in discussione a patto che il paziente si è ben informato quarto il catetere non sia più appropriato ma più appropriato vuol dire che ad esempio tu hai un catetere monolume che a un certo punto dato che il paziente deve fare anche determinate terapie neurologico metabolico di supporto eccetera bisogna di un bilume oppure un paziente che abbia cominciato il suo trattamento con un catetere esterno perché stava in condizioni malandate e che stanno molto meglio avendo cambiato e facendo vita attiva a un certo punto vuole un catetere totalmente impiantabile ma al di fuori di queste quattro situazioni c'è un esempio più bello che sono i bambini che crescono senza aver mai dovuto sostituire il catetere che poi lo devono sostituire perché sono diventati troppo alti e diventa troppo corto il catetere quello rimane nella prepatezza perché il catetere ci sono due età tipiche pericolose una è quella dei due o tre anni e l'altra è quella della pubertà in cui il bambino probabilmente ha degli impennati di crescita però in questo caso rientra nel fatto che il catetere non è più appropriato perché mentre tu l'avevi messo come catetere centrale ormai non è più centrale quindi non è più appropriato per la parenterale quindi rientra sempre nel caso di un catetere che tu sostituisci perché non è più appropriato devo dire fra l'altro che ci sono delle linee guida precise che raccomandano nel bambino fino ai 15-16 anni di fare dei controlli annuali della posizione del catetere per verificare che il catetere nel frattempo non si sia scorciato come dici tu la sepsi è motivo di asportazione del catetere e se sì quando? è molto semplice anche qui le linee guida sono chiarissime se tu hai un paziente con uno stato settico con una componente ipodinamica cioè il paziente è praticamente collassato per causa della sepsi lì si entra nell'ordine di idee che anche in assenza di qualsiasi diagnosi tu gli togli tutto quello che può essere la causa della sepsi se ti togli il catetere vescicale o lo sostituisci li togli il catetere minoso centrale lo sostituisci ma quella rientra in un caso specifico di paziente sai la parola sepsi è una parola a volte molto ambigua parliamo diciamo che questo avviene nello shock setting ecco così ci capiamo meglio la sepsi può essere semplicemente interpretata come un'infezione batteriemica però ci sono delle infezioni batterie e delle sepsi che non sono associate dell'infezione batteriemica così come ci sono delle batteriemie che non danno dei segni di infezione noi parliamo specificamente non solo della batteriemia ma in particolare dell'infezione con batteriemia parliamo in particolare di una sepsi cioè di uno stato sistemico infettivo che riguarda tutti diversi organi e in particolare la sepsi con uno shock ipodinamico in questa situazione tu per non sapere leggere scrivere è previsto dalla linea guida che togli qualsiasi cosa compreso il catetro centrale che molto spesso è innocente quando non c'è questa situazione e quando non ci siano delle altre ecco un altro esempio di catetro da togliere subito senza diagnosi di infezione è quando vedi pus uscire dal tundero al sito d'emergenza oppure dalla camera del porta ma questo è un altro caso particolare in assenza di pus locale in assenza di uno shock ipodinamico in assenza di una necessità immediata e ovvia di togliere il catetere il catetere andrebbe tolto soltanto se c'è una diagnosi appropriata di infezione catetere correlata e l'infezione catetere correlata si fa la diagnosi purtroppo o per fortuna in una maniera molto molto precisa che oggi è nella maggior parte dei casi la DTP cioè la cultura appaiata con confronto dei tempi di positivizzazione è quella che ci dà la cosa a me è capitato recentemente sempre quando è catetere correlata va tolto il catetere no ci sono delle indicazioni precise anche qui dall'iniguita che sono precisissime in proposito se si pensa che il paziente abbia una possibile difficoltà al posizionamento del catetere perché deve tenerlo per tantissimo tempo perché c'è già difficoltà a porlo e contemporaneamente la diagnosi di infezione patenemica che riguarda un germe che non sia particolarmente aggressivo in sostanza che non sia uno staphylococco aureo e che non sia una candida e se contemporaneamente si è in presenza di un'ecocardiografia negativa per endocardite e se contemporaneamente non ci siano segni di pus al sito d'emergenza o nella tasca o nel tunnel in queste condizioni è possibile fare un trattamento conservativo trattamento conservativo che oggi fra l'altro come forse già sai prevede un lock terapeutico antibatterico fatto con una sostanza antibatterica come la taluridina oppure le di tirate trasodico e contemporaneamente però anche un trattamento antibiotico sistemico fatto con un antibiotico che sia provatamente efficace sul batterio in questione quindi la lock therapy non più con l'antibiotico no si è visto che l'lock therapy è l'antibiotico ha diversi problemi il primo problema è che non tutti gli antibiotici sono efficaci perché non tutti entrano dentro il biofilm che protegge i batteri all'interno del cateter secondo problema è che la concentrazione efficace dell'antibiotico è veramente difficile da stabilire ti dico soltanto che fino a qualche tempo fa forse ancora adesso il povero scoppettuolo che è il nostro infettivologo è uno dei più bravi d'Italia in questo senso riceveva in continuazione telefonate da infettivologi di altre parti d'Italia che vogliono sapere quanto doveva essere riduito l'antibiotico eccetera è un classico io giro col protocollo stampato ormai il terzo motivo è che l'antibiotico purtroppo può precipitare e dare occlusione alle catetere nel senso che essendo fatto ad alte concentrazioni è spesso instabile all'interno delle catetere e anche se si mette dentro delle anticoagulanti e cose del genere spesso è instabile e precipita e dà dei clog come si dice che bloccano i catetere cosa che è particolarmente frequente e particolarmente importante nel catetere usato per parenterare in cui già i lipidi inguacchiano tutto e bloccano tutto poi non solo c'è anche il fatto che l'antibiotico crea resistenze batteriche agli antibiotici e molte delle resistenze batteriche che ci sono oggi sono legate ovviamente all'uso qualche volta necessario qualche volta smuodato di antibiotici che si vengono e fatto in tutti gli ospedali la cosa bella della taloidina e dell'intilato tetrasodico è che invece distruggono il batterio dell'esterno senza possibilità che il batterio possa selezionarsi geneticamente in modo da essere resistente a questi farmaci devo dire che a queste sostanze devo dire che non c'è antibiotico che non abbia questo piccolo pericolo di creare dei batteri ultra resistenti e l'ultima cosa è che vi sono antibiotici che purtroppo possono essere o tossici per l'organismo se vanno in circolo e quindi bisogna di aspirare di bene o anche se vanno in circolo in perissima quantità possono a un certo punto indurre delle allergie al paziente e all'antibiotico stesso mentre invece la taloidina ad esempio le DTA tetrasodico sono due sostanze a cui nessuno può mai la taloidina oppure hai detto le DTA tetrasodico che è una nuova sostanza che è già in commercio si chiama Kite-Lock e che è potente quanto e forse neanche di più della taloidina anche se c'è meno studi in proposito che tra l'altro è una sostanza che è potentissima anche per disostruire i cateteri una specie di paulico liquido ecco e le DTA tetrasodico è bello questo perché a livello di costi come le DTA perché ad esempio io ho sempre avuto problemi a chiedere di disostruire quando è successo perché l'urochinasi ha dei costi eccessivi viene gestita solo da alcuni reparti eccetera sono due cose diverse l'urochinasi dovrebbe essere usata esclusivamente per il trattamento dell'ossuzione e purtroppo costa parecchio perché costa 150-170 euro per una confezione da 100.000 unità mentre invece le DTA tetrasodico viene usato come profilassi figacissimo profilassi e costa pochi euro la friala un po' come la taloidina è anche potente antisettico grazie gestione allora io lascerò perdere un attimo le prevenzioni scusa Mauro possiamo chiedere se qualcun altro ha delle domande da fare o forse più dopo la gestione perché tanto la gestione è quello che forse incuriosisce di più tu sei particolarmente colta anche in ambito di catetri lo sappiamo tutti quanti perché ti informi hai studiato sei venuto anche alle mie lezioni insomma ormai di catetri ne sei quanto un impiantatore e invece per gli altri forse è più la gestione il punto curioso o no sì anche se diciamo che l'80% delle persone collegate lo gestiscono già da tempo quindi sono sulla gestione magari non formate diciamo in aula quanto me ma sicuramente più precise più attente se vi dico delle cose più o meno dato che ci mancano 20 minuti a fianco di fare questa cosa di gestione vediamo se vi dico delle cose che vi sembrano appropriate oppure no le complicanze metaboliche non ve la dirò diciamo che si utilizzano sacche nutrizionali ovviamente industriali ormai non vi sono evidenze che certi nutrienti speciali immunonutrienti possono essere utili alla fine le sacche nutrizionali normali sono quelle da utilizzare non esiste il lipide particolarmente magico o l'aminoacido particolarmente magico che ti cambia la storia posso dirti che non è così scontato che vengano usate le sacche nutrizionali industriali ci sono intere ASL che fanno ancora le sacche della farmacia ospedaliera o che usano le sacche fatte aveva un senso quando farsele da soli rappresentava un risparmio ma adesso se vuoi fare una sacca come Cristo comanda e devi avere tutta la percchiatura la camera bianca e tutto il resto eccetera devi avere una parte della farmacia dedicata soltanto a quello e è stato calcolato mi ricordo anni fa si calcolava che soltanto un ospedale che faccia più di 200 300 sacchi al giorno aveva una convenienza forte perché contemporaneamente le sacche nutrizionali industriali sono carrollate di prezzo una sacca ormai nutrizionale costa quasi quanto una sacca di pernuzione interale e quindi c'è anche una dinamica per cui era vero fino a qualche tempo fa che la farmacia e la farmacia potrebbe essere conveniente farsi la cosa fatta in casa piuttosto che comprarla adesso il rapporto di convenienza si è alterato in senso opposto ci sono molti più tipi di sac prima ce n'era solo un paio industriali quindi anche la scelta diciamo della sacca più adatta al paziente adesso è più fattibile sì è vero c'è più concorrenza e c'è anche più possibilità di diversificare in termini di calorie e proteine però mentre la diversificazione in termini di calorie e proteine è una diversificazione sacrosanta altre diversificazioni tipo aggiungere dei lipidi speciali dei aminoacidi speciali dei glucidi speciali eccetera invece sono un po' farlocche e fanno parte della tendenza del capitalismo terziario a diversificare il prodotto per venderlo meglio perché c'è sempre qualcuno che crederà che avendo aggiunto non so una certa quantità di lipide dall'olio di pesce piuttosto che lipidi normali ecco che improvvisamente quello ha una caratteristica in più di in realtà la triste realtà è che non c'è nessuna evidenza scientifica l'unica evidenza scientifica che è forte è che bisogna dare quantità sufficienti di calorie e di proteine quantità sufficienti già ben stabilite di aminoacidi di lipidi di glucidi che bisogna dare vitamine tutti i giorni cosa che viene spesso dimenticata e bisogna dare oligone alimenti almeno una volta a settimana e particolarmente da domiciliare queste sono le cose sicure comunque di complicanze metaboliche è una cosa che probabilmente non riguarda estremamente i catetri non ne parliamo invece per quanto riguarda le infezioni ci sono delle regole forti ad esempio le sacche nutrizionali industriali sicuramente sono privilegiate rispetto a quelle fatte in casa dove ogni tanto ci sono alcuni specialmente alcuni ospedali non attrezzati in maniera perfetta ci possono essere delle provviste contaminazioni da germi nel sacco nutrizionale ricordatevi che la sacca nutrizionale è una pacchia per i germi cioè tutti i miceti crescono in maniera fantastica sui dipili la maggior parte dei batteri crescono in maniera fantastica sulle aminoacide una soluzione che per loro è un invito a nozze anzi un invito al picnic quindi riuscire a fare una sacca nutrizionale completamente sterile è un po' come respirare sott'acqua e se non viene fatta se con la camera bianca con tutte le manovre di asepsi totale eccetera è un problema cose che sono più facili da fare a livello industriale che a livello del singolo ospedale ma una volta che l'hai preparata bisogna stare attento a non esporre la sacca alla luce solare e soprattutto sostituire la sacca di un infusionali ogni 24 ore perché si è visto che dopo 24 ore o con l'esposizione alla luce i lipidi più facilmente saranno soggetti a contaminazioni batteriche e da candida l'altra cosa fondamentale è che bisogna usare i connettori senza ago perché i connettori senza ago sono gli unici che sono veramente ben disinfettabili quindi questa è una cosa che ancora qualcuno magari non utilizza ci sono delle sacche di incultura che pensano che siano utili però ben utilizzato l'altra cosa che protegge le infezioni è di utilizzare un lume esclusivamente per la parenterale nel momento in cui utilizzi la stessa via anche per fare altre terapie necessarie da ventizie ecco che sicuramente questa sarà una causa di manipolazione della via che aumenterà il rischio infettivo un'altra cosa in cui credo fortissimamente è che la taloidina dovrebbe essere utilizzata come lock profilattico in tutte le parenterie domiciliari diciamo che forse è una posizione che sta venendo fuori a galla a livello di linee guida in maniera non così forte però tra un po' lo sarà la taloidina è completamente innocua si trova abbastanza facilmente non costa niente costa pochi euro ed è incredibilmente efficace perché senza citrato perché il citrato va a precipitare la parenterale il citrato che c'è esistono delle confezioni taludine al 2% con il citrato al 4% or bene sappiate che il citrato al 4% non ha nessun effetto antibatterico era stato messo la taludina al 2% semplicemente per avere anche un anticoagulante il che è una cosa ragionevolissima nei catetri per dialisi ma ormai da 10 anni a questa parte si sa che i catetri che non vengono usati per dialisi non hanno bisogno di anticoagulante quindi ecco che quel citrato in più aggiunto alla cota laudina non soltanto è pericoloso non soltanto è inutile ma anche pericoloso e questo si è utilizzato soprattutto per la nutrizione non a caso c'è una famosa ditta che mentre ha un prodotto che si chiama Tauroloc che contiene taludina al 2% e citrato al 4% che è fatto per la dialisi l'equivalente fatto per la nutrizione perenterale non a caso si chiama Nutriloc che è proprio quello senza citrato taludina al 2% e basta però esiste anche un altro prodotto di un'altra ditta che si chiama Taurosept tanto per non fare nomi commerciali anche questo taludina al 2% e basta quindi la cosa importante è se uno fa la taludina è preferibilmente trovare uno di questi due prodotti che sono taludina al 2% senza citrato in realtà poi il Taurolo non è neanche taludina al 2% è anche più diluiti all'1,35% anche se pare che non faccia molto differenza grazie esistono delle medicazioni a rilascio di colexidina tipo il Biopatch o anche il gel a rilascio di colexidina che fra l'altro non ha nessuna evidenza convincente di efficacia però diciamo che questo non servono perché sostanzialmente bisognebbe tonalizzare i catetri se voi avete un catetri non tonalizzato allora può avere senso utilizzare Biopatch mai utilizzare le medicazioni con gel a rilascio di colexidina perché sono una schifezza sì una schifezza nel senso che da un certo punto di vista non hanno nessuna evidenza di efficacia pensate che esistono 9-8 lavori randomizzati sulle medicazioni con gel a rilascio di colexidina e soltanto uno dice che sono utili quello di TimSit oltre a questo il gel blocca la traspirazione della cute e questo proprio sussidio di emergenza e questo può aumentare il rischio di macerazione della cute nel sito d'emergenza e qui magari poi date la colpa alla medicazione trasparente o alla cuffia o al Securgan invece è il gel che impedisce la traspirazione qui vedete a sinistra il Biopatch in mezzo sono i Port Protectors che sono i sistemi migliori che bisogna usare sempre oggi per mantenere disinfettato il catetere chi di voi fa la parenterale domiciliare notturna durante il giorno non devo utilizzare quelle porcherie di garze arrotolate intorno all'anideff e connetto ma dovrebbe mettere un cappuccio disinfettante di questi costano 15 centesimi una cosa del genere e sono effettivamente molto efficaci vi ricordo che il fatto di mettere delle garze intorno all'uscita del connettore del catetere quando non è utilizzato garze contro garze betadine più garze fino a ottenere quegli batacchi orribili a vedersi è qualche cosa che non solo non ha nessuna evidenza di efficacia se voi dovete ridurre le infezioni dovete in realtà mettere il cappuccio disinfettante ma attirano anche tutti i germi dell'ambiente la garza è un potentissima calamita per i germi perché nelle tre dimensioni ha una quantità enorme di superfici in cui si può attaccare il biofilm l'altra complicanza sono le occlusioni e anche qui le occlusioni diventano meno probabili se si utilizzano soltanto le sacche per nutrizioni industriali che sono stechiometricamente perfette e se le vitamine vengono aggiunte separatamente per un'altra via oppure magari nel momento in cui uno non fa la parenterale oppure come seconda scelta devono essere aggiunte alla sacca però seguendo in maniera molto precisa le istituzioni per l'uso o le istituzioni del farmacista gli auricolamenti invece non ci sono santi vanno sempre fatti per via separata una volta a settimana mettere gli auricolamenti dentro la sacca significa andare a cercare dei guai in termini di compatibilità la sacca tradizionale è qualche cosa che sta in equilibrio stechiometrico per miracolo se vogliamo dire così e qualsiasi cosa ci metti dentro in quantità eccessiva auricolamenti vitamine eccetera rischia la precipitazione in particolare per gli auricolamenti le vitamine possono essere messe dentro alla sacca però bisogna ricordarsi che quando le metti dentro la sacca tu manipoli la sacca insieme alla vitamina può entrare anche il germe non solo ma anche le vitamine se le metti troppo o troppo poche o in quantità non appropriata possono far precipitare i lipidi l'altra cosa che serve per primire le occlusioni Scusa Mauro posso farti una domanda su questa particolare parte perché da quello che ne so io tutti noi inseriamo sia le vitamine che gli oligoelementi in sacca in particolare io aggiungo due cernivit e un addamel tutti i giorni beh allora se le metti tutte e due nella sacca vitamine e oligoelementi come dire si annullano per gran parte a vicenda si disattivano a vicenda e come e per sapere a che velocità vanno somministrati gli oligoelementi devo chiedere il reparto gli oligoelementi in realtà li posso somministrare diciamo come fisiologica quasi in volo uno che faccia una gestione parenterale durante il giorno magari al momento in cui stacca la sacca una volta a settimana dopo aver fatto un bel lavaggio costruzione fisiologica di almeno tre volte lo spazio morto del catetere quindi 10-20 fisiologica fa scendere per un'oretta gli oligoelementi e poi fa l'altro lavaggio ma gli oligoelementi bastano una volta a settimana sono elementi traccia il fatto di farli tutti i giorni è anche potenzialmente pericoloso io ho avuto dei pazienti che in parenterale che facendo gli oligoelementi tutti i giorni sono andati incontro a delle problematiche di eccesso di manganese ad esempio che è contenuto negli oligoelementi che possono dare delle alterazioni neurologiche anche molto grandi quindi gli oligoelementi e poi comunque mai oligoelementi e vitamine insieme questo c'è scritto in tutte le linee guida dell'aspen dell'espen della simpe e quant'altro anche qui purtroppo bisogna venire a patti con i rischi legati alla comodità certo mettere tutto dentro la sacca è molto più comodo però può essere pericoloso io consiglierei le vitamine di metterle soltanto se uno non vuole farle fuori dalla sacca attenzione che le vitamine hanno un problema soprattutto la vitamina K è molto facilmente inattivata dalla luce del sole quindi la vitamina K andrebbe fatta in bolo oppure verrebbe fatta su deflussori schermati altrimenti grazie a Dio comunque la vitamina K nessuno va di solito in deficit di vitamina K perché il fegato ha grosse riserve di vitamina K invece bisogna sempre usare l'ultipompa i connettori senza ago devono essere displacement neutro il lume deve essere dedicato alla parenterale e poi soprattutto ricordarsi di non usare mai eparina e citrato come l'occhio del cadere con meccanismi diversi ma legati sostanzialmente alla loro acidità l'eparina e l'eccitato sono due acidi deboli fanno precipitare i lipidi che invece sono delle basi sono basici e i primi infatti centri a smettere di usare l'eparina all'inizio del secolo furono proprio quelli che facevano infusione parenterale e il citrato con meccanismi che non riguardano soltanto il pH ma riguardano anche la loro proprietà chelante dei cationi anche questi fanno precipitare all'interno dei componenti della parenterale e poi ovviamente la prevenzione migliore di infusione è lavare 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 tutte le volte che uno si stacca e quando ricomincia l'infusione lavare con una quantità che deve essere secondo linee guida almeno tre volte lo spazio morto in realtà per la maggior parte dei cateteri ad esempio per un pic 10 cc è già sicuramente più che tre volte lo spazio morto però ad esempio se uno ha un port può darsi che gli convenga a fare 15-20 cc per avere una cosa che sia sicuramente tre volte lo spazio morto comunque dato che la fisiologica è innocua meglio eccedere che almeno questo nell'adulto meglio eccedere che nel quamdeficere soltanto nel neonato o alla fine nel lattante è importante sapere esattamente lo spazio morto del catetrio perché lì ovviamente se nel lattante gli fai 20 millilitri di fisiologico lo mandi in etema pulmonare insomma questo è un esempio di catetri scusate di del ficonnecto a pressione neutra la gestione delle medicazioni la medicazione cioè la gestione di stile emergenza sostanzialmente è una gestione settimanale prevede la rimozione della membrana la dissipazione per 30 secondi con la cloxelina in 2% di alcoolisopopilico in applicatore monoso monouso e dopo 30 secondi si mette nuova membrana ovviamente se c'è un securacatto oppure se non c'è niente perché cade ricuffiato non c'è bisogno di cambiare lo statlock qualche volta se invece il pic è fissato con lo stat o col grip o il quingard occorre cambiarlo però in linea generale io conto che la stragrande maggioranza dei cateteri esterni usati per nuizione parentale domiciliare siano in realtà fissati o con la cuffia o con il securacatto e in entrambi i casi non c'è da cambiare niente al limite l'ancoraggio sottocutaneo potrebbe essere associato e qualche volta anche la cuffia ha un securacatto più che altro per non avere delle problematiche di trazione eccessiva del catetere accidentale quindi problema più traumatico che infettivo sia il catetere cuffiato che il catetere fissato con calcio sottocutaneo se uno tira ovviamente fa male è importante che l'utilizzo di quel sire viene fatto tramite applicatore monoso monouso ricordatevi che il bypass va usato soltanto per i catetere non tonalizzati e il cianacrilato in realtà come dicevo è il problema dell'impiantatore il cianacrilato va utilizzato soltanto se per qualche motivo strano si vede uscire del siero del sangue la sito di emergenza invece una cosa abbastanza interessante sono le membrane ad alta permeabilità questo è un lavoro del 2021 che comparava che paragonava diverse membrane e vedete che c'erano alcune membrane che hanno un Mvtr molto alto questa la questa la F o la G e l'Mvtr qui è stato fatto con due metodi diversi però vedete che a prescindere dal metodo puoi spiegare che cos'è l'Mvtr per favore sarebbe il monster vapor transfer rate cioè il tasso di trasporto attraverso la membrana ovviamente di vapore e di umidità e si misura in grammi di acqua per metro quadro al giorno quindi più è alto più traspira più alto più traspira cioè diciamo un'altra maniera una medicazione che sia completamente impermeabile ci avrà Mvtr zero ok quella molto permeabile ci avrà un un Mvtr di molte migliaia ecco e qui vedete che comunque non tutte le medicazioni sono uguali esistono in commercio soltanto tre medicazioni che sono veramente veramente traspirabili e che sono il Tegraderm advanced attenzione però soltanto quello Tegraderm advanced il B infatti è un Tegraderm normale vedete che differenza adesso qui tra 800 e 4000 700 secondo l'emmetodo però vedete che c'è le medicazioni una medicazione Tegraderm quella normale tipo B traspira molto poco e l'IV3000 traspira moltissimo e anche moltissimo per fortuna il Solvaview o Solvashield insomma quelli della Medline adesso qual è il problema reale è che se tu sudi o sei in un punto della pelle dove c'è molta idratazione oppure se essi di fronte a un bambino o un lattante che voi sapete che i bambini lattanti sudano traspirano molto più degli adulti se la membrana non riesce a far uscire questo vapore attraverso la membrana si accumula dell'umidità al di sotto la membrana trasparente e la cute ripresenta di questa umidità tra membrana acute cioè questa umidità avviene una macerazione della cute con un arrossamento della cute e ovviamente c'è sempre quello che dice ah è allergico alla membrana trasparente in realtà la maggior parte delle cosiddette allergie alla membrana trasparente non sono allergie ma sono semplicemente arrossamenti della cute legati a macerazione per mancato passaggio di umidità quindi una cosa che diventa importantissima quando uno ha un catetere per lungo termine è utilizzare le medicazioni che abbiano un'altra traspirabilità magari per quel paziente che è stato operato che c'è il catetere soltanto per una settimana quello che gli emette gli emette non fa differenza ma un poleto che avrà quella stessa zona coperta da medicazione trasparente per anni deve essere la medicazione trasparente migliore possibile quindi il tegamer derm quello che utilizziamo noi per fare la doccia per intenderci quello in rotolo non è completamente impermeabile no un tegamer non esiste un tegamer che è completamente impermeabile però ho detto il passaggio è più delle umidità sono impermeabili ai liquidi ma non ai vapori cioè nel senso che se tu butti dell'acqua sopra un tegamer di qualsiasi tipo anche scamuffo oppure ci sputi sopra e adesso mi spiace la rozzezza della cosa ma ci sono certi pazienti che hanno che magari che sbavano in terapia intensiva perdono secrezioni la tachostomia quelle secrezioni liquide che vanno sopra la medicazione non passano perché ha un'impermeabilità ai liquidi ma l'impermeabilità ai liquidi non significa impermeabilità ai vapori cioè la medicazione trasparente semipermeabile quel semipermeabile significa che permeabile ai vapori ai gas ma non ai liquidi ai solidi ciò vuol dire che una medicazione trasparente ad esempio non fa passare nessun batterio neanche i virus così come non fa passare lo sputo il vomito l'acqua eccetera quindi tecnicamente quello che noi chiamiamo impermeabilità sono impermeabili l'impermeabilità totale è quando però non può passare neanche il vapore del gas certo e quelle che vengono usate a livello medicale sono medicazioni trasparenti semipermeabili ovvero che non fanno passare nei batteri nei particelle di qualsiasi tipo solido né particelle liquide ma soltanto i gas e quindi anche il vapore d'acqua certo la gestione delle infusionali viene fatta con la soluzione ogni 24 ore ma questo è un dato di fatto e che riguarda specificamente la soluzione parenterale il lavaggio la disinfezione dell'e-hub ecco una cosa che sta diventando sempre più forte a livello internazionale è la raccomandazione di utilizzare siringhe per impidire fisiologica per fare il lavaggio e questa è una cosa che semplifica la manovra e ci sono già delle evidenze che dicono che l'utilizzo di siringhe per impidire dato che riduce le manipolazioni ha un effetto benefico sul rischio infettivo in altre parole quando uno stacca la sacca dovrebbe lavare con una o due siringhe per impidire di fisiologica e poi eventualmente lascia richiuso con la taluridina e poi il giorno dopo dato che la taluridina può andare in circolo senza bisogno di riaspirare rilava con una o due siringhe per impidire fisiologica il fatto di usare siringhe per impidire ha un costo minimamente superiore alle siringhe normali diciamo che una siringa per impidire può costare intorno a 80-90 centesimi una siringa normale costa intorno a 15-20 centesimi però è un vantaggio sicuro in termini di io non le consiglierei in ambito ospedaliero ma in ambito domiciliare assolutamente sì perché se non hai siringhe per impidire in ambito domiciliare devi fare degli azigogoli tipo ottenere la fisiologica appungere la fisiologica con l'ago oppure aprirti le fialette di fisiologica connetterle e sono tutte manovre che sono un rischio di errori di manipolazione e quindi contaminazione e poi ovviamente utilizzare sempre di dispermettro a dispermettro e neutro non quelli negativi e utilizzare disfensione passiva mediante i port protector quindi alla fine gli obiettivi della planetaria domiciliare riassumendo sono minimizzare il rischio di contaminazione batterica per via extraluminale cioè quella che vende da tutte e questa lo fa in parte l'impiantatore e in parte il gestore l'impiantatore lo fa scegliendo bene il sito di emergenza tunnelizzando mettendo il cianacrilato mettendo l'ancoraggio e il gestore lo fa utilizzando in maniera adeguata la membrana trasparente e la disinfezione locale con coexilina però bisogna anche minimizzare il rischio di contaminazione batterica intraluminale e questo appannaggio soltanto del gestore la contaminazione batterica intraluminale viene minimizzata quando si fa il cambio giornaliero in infusionale quando si lava con soluzione fisiologica perché anche lavare un effetto di protezione della contenzione batterica perché evita il ristagno di biofilm e di soluzioni nutritive che possono far crescere i batteri l'utilizzo di connettori senza ago i port protectors e ultimo ma non ultimo il lock profilattico che nel futuro diventerà un must per tutte le funzioni planetarie miciliari l'altro obiettivo è minimizzare il rischio di trombosi menosa e questo è tutto sommato quasi tutto nell'ambito dell'impiantatore non mi ripeto vi ricordo soltanto che però i pazienti che abbiano una trombofilia congenita e purtroppo molti pazienti in parentaria domiciliare hanno queste caratteristiche per esempio esistono pazienti in parentaria domiciliare che sono in parentaria domiciliare di incontro a delle sezioni massive intestinali dovute ad esempio a una trombosi venosa mesenterica spontanea ecco in questi pazienti dovrebbero fare sempre una profilassia anticoagulante per via sistemica questa è una cosa che riguarda appunto chi ha le trombofilie congenite l'altro discorso è la dislocazione che riguarda soprattutto i due principali sistemi che abbiamo la cuffia l'ancoraggio sottocutaneo ma anche l'utilizzo dei cateti in polietaneo che hanno tendenza a muoversi molto di meno dei cateti in silicone e poi il rischio di occlusione che anche qui è sicuramente preferire i cateti esterni ai porti adesso so che molti di voi probabilmente hanno un porto per la parenterale quando il paziente vuole un porto per la parenterale noi gli spieghiamo che però deve accettare un rischio di occlusione del sistema che è otto volte quello di sistema esterno poi ovviamente uno se le fa le cose fatte bene riesce a non farselo occludere mai però il rischio è un concetto più generale chi ha un port è più facile che sostruisca con i lipidi il catetere ed è forse più facile che ci sia difficoltà di sostruire una cosa che è sicura che bisogna usare comunque il catetere in polietano questo sia per i port che per i catetere esterni il silicone va abolito perché ha un eccessivo rischio di ostruzione e una difficoltà alla disostruzione e ovviamente il rischio di conclusione viene anche diminuito dal cambio giornalino e infusionale dall'utilizzo di conduttori senza ago e dal lavaggio come abbiamo già detto soprattutto evitare ipadino e citrato per le complicanze meccaniche sostanzialmente bisogna evitare il silicone perché la maggior parte delle complicanze meccaniche sono legate all'utilizzo antiquato di catetere in silicone e per quanto riguarda minimizzare i costi della gestione vi sono alcune strategie ad esempio l'ipadinizazione era un costo che adesso si è visto non è più utile il biopatch è un costo che esiste soltanto per il catetere non tonalizzato quindi ecco che il fatto di tonalizzare non solo protegge in maniera efficace il catetere dalle infezioni ma evita anche di doversi procurare e di dover mettere il biopatch tutte le volte che è un vantaggio logistico ma un vantaggio anche economico e un'altra cosa dal punto di vista del paziente è la semplificazione della gestione se uno ha un catetere fissato con un collaggio sottocutaneo oppure con una cuffia chiaramente questo evita la manovra di apposizione e rimozione dello staturo del grip lock non c'è parte dei casi anche se ci sono alcuni casi di cuffia alcuni casi di staturo di sicura da dove si mette comunque lo staturo il fatto di usare la tonalizzazione evita le manovre di apposizione e rimozione del biopatch o settimanale il fatto di avere un connettore senza ago displacement neutro tipo che so il neutro a clear o il microclave o il bionectere eccetera evita le manovre di campaggio il fatto di utilizzare il porto tetto cioè i cappucci sinfettanti evita le manovre di scrubbing e lavare con fisiologiche basta senza eparina evita le manovre di preparazione di eluzione di eparina e soprattutto se sono singoli ripetite sono evitate le manovre di preparazione e manipolazione quindi molte di queste nuove strategie tendono anche a semplificare la gestione quindi la scelta è la gestione di impianto educativo gestione medicazione gestione infusionale e quindi riuscire a minimizzare le complicanze utilizzando i sistemi vi ricordo che tutto questo è anche ben codificato anche a livello italiano dal Gavecet esistono delle raccomandazioni Gavecet 2021 che stanno di quest'anno per essere aggiornate fra due settimane tre settimane usciranno quelle del 2024 che già vi dicono tutto quello che bisogna fare per la scelta di impianto e gestione del dispositivo di accesso venoso esistono due manuali di Gavecet uno sui picche e uno sui porte che vi dicono tutto quello che dovete sapere a riguardo e vi ricordo anche che nel sito Gavecet c'è un'area video dove c'è uno sproposito un centinaio di video che riguardano tutto ma non c'è solo l'impianto eccetera ma anche sono moltissime nuove gestioni spiegate per filo e per segno questo è tutto aspetto domande grazie Mauro sei stato veramente come sempre super esaustivo spero anch'io che ci sia qualcun altro che fa domande ma io una la volevo fare buonasera ciao volevo sapere perché sui tunnelizzati non bisogna mettere il tappo con la clorexidina è sconsigliato ha detto che ha sconsigliato il tappo di clorexidina no cosa intendi per tappo con la clorexidina il bio patch simona è sconsigliato cioè quello proprio sul sito di no 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 c'era proprio scritto che sui tunnelizzati non bisognava mettere dopo il clave la chiusura con il tappino di clorexidina allora prima di tutto non esistono tappini di clorexidina i cappucci disinfettanti sono tutti con il alcol isopopilico hai letto male se mi dici in quale diapositiva vediamo un po' no ehm cid l'aspetto il filtrino il rilascio di collezione questo qui è questo di usare il filtrino il rilascio soltanto nei catetri non tonnellizzati esatto grazie il filtrino è il bio patch il filtrino ah ok 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 perfetto il filtrino il bio patch perché allora non bisogna usare il bio patch sui tonnellizzati per due motivi prima di tutto perché manca di logica in quanto che il bio patch tende a scoraggiare la contaminazione batterica per via extraluminale cosa che riesce a fare a ridurre di un sesto la contaminazione batterica per via extraluminale nel senso che i germi che tendono ad entrare nella breccia cutanea essendo quella parte contaminata sempre impregnata di coexelina vengono per gran parte fatti fuori la tonnellizzazione di per sé ha un effetto simile che riduce anche questa di 5-6 volte la condizione via batterica perché il batterio che intra il rasomai dal cateto tonnellizzato viene fatto fuori in quei 4 cm di tonnellizzazione delle difese naturali a livello logico a livello scientifico c'è un fatto c'è dimostrazione sicura che il biopatch riduce le infezioni da catetere nei catetri non tonnellizzati nessuno è mai riuscito a dimostrare che riduce le infezioni da catetere nei catetri tunnelizzati quindi c'è un discorso di logica dall'altra parte anche un dato scientifico quindi io se vedo il punto di inserzione arrossato non devo mettere il biopatch quindi non ha nessun senso il punto di infezione arrossato può essere dovuto a diverse cause può essere dovuto anche a una reazione al stesso biopatch fra l'altro no ma io non lo uso quasi mai lo metto solo se vedo il punto arrossato allora ce l'ho e lo metto un inizio di un'infiammazione o di infezioni di qualche tipo e anche in questo senso bisogna ricordare che mentre il biopatch sicuramente ha un effetto di prevenzione dell'infezione di siloemergenza mi segui non ha una efficacia nella terapia dell'infezione di siloemergenza quindi se io vedo arrossato quello che faccio e lo tratto come se potesse essere potenzialmente un inizio di infezione di siloemergenza e che vuol dire che disinfetterò tutti i giorni anziché una volta a settimana a quel punto per 3-4 giorni vedendo come va cercherò di capire se c'è qualche fattore irritante locale che mi dà quell'infiammazione cercherò di capire se c'è qualche altro segno di infezione come ad esempio la doloreabilità alla pressione cercherò di capire se c'è qualche altra cosa che diciamo così tipo la medicazione trasparente magari non traspirante che possa aver facilitato una macerazione in quel punto però non fa parte di quelle strategie per capire se c'è un'infezione di siloemergenza oppure no e l'altra domanda che le volevo fare è ma il clave di fatto dovremmo cambiarlo ogni giorno secondo lei purtroppo sì ah perché c'è stato insegnato di cambiarlo quando facciamo la medicazione guarda non ci sono dei fortissimi dati in proposito ci sono due scuole diverse da una parte si pensa che nel momento in cui lo attacchi al catetere fa parte integrante del catetere e quindi come tale dovrebbe essere cambiato soltanto con la medicazione perché più di una settimana comunque il clave non può stare c'è invece l'altra scuola di pensiero che è quella d'oltreoceano che dice che il clave in realtà essendo parte degli infusionali adesso è una cosa non preassemblata dovrebbe essere cambiato tutte le volte hanno un pochino ragione su un certo punto di vista cioè il fatto che il clave pur essendo un fantastico meccanismo per chiudere il catetere in maniera sicura molto meglio di qualsiasi tappino in quelle dieci ore che tu non usi il sistema è però un sistema che più facilmente favorisce la crescita dei germi perché è una frattuosità molto complessa nel quale nel corso di tre quattro cinque sei giorni una settimana i lipidi possono in qualche modo rimanere diffunzionalizzati dal flusso dei lipidi marginalizzarsi negli ingranaggi del clave e lì far crescere i germi però questo sempre a livello di ragionamento logico a livello invece di evidenze scientifiche non c'è nulla che vada fortemente a favore di cambiarlo tutti i giorni o cambiarlo una settimana di sicuro è che se il paziente è un paziente a diciamo così a basso rischio infettivo comunque minimamente o almeno un'altra settimana va tolto va rimosso è chiaro una cosa è quello che è il senso logico e un'altra cosa è quello che poi viene dimostrato da studi specifici non lo so io sono dell'idea che squadra che vince non si cambia visto che io in tanti anni incrocio le dita qui lo dico non ho mai avuto una sepsi e l'ho sempre cambiato una volta una settimana non vorrei bravo vuol dire che sei brava tu non vorrei ora dico inizio a cambiarlo tutti i giorni perché l'ho capita la cosa mi piace l'idea di cambiarlo tutti i giorni perché in ambito introspedaliero non ci sono dubbi cioè i germi sono talmente più incattiviti in ambito ospedaliero che sicuramente va cambiato tutti i giorni ma non si ha mai l'ospedale te lo cambiano una volta alla settimana è impensabile nell'ospedale te lo cambiano tutti i giorni nell'ambito invece domiciliare dove da una parte ci sono germi germi molto più farlocchi germi all'acqua di rose insomma germi che difficilmente fanno grande paura e d'altra parte c'è una maggiore precisione e continuità nella gestione cioè penso che quando tu sei a casa che tu abbia un caregiver che tutto lo fai da sola o che c'è un'infermiera che viene specificamente a tanti consigli eccetera c'è una continuità della gestione molto più coerente di quella che può essere un ospedale dove ogni turno infermistico c'è un infermiera diverso che c'è quella più preparata quella più giovane quella appena arrivata quello che fa in media quello che fa nell'altra e quindi c'è una più difficoltà di standardizzazione e quindi bisogna aumentare la soglia della sicurezza capisce? certo certo grazie mille se voi vi segnate questo mio mia email e ci avete dei dubbi scrivetemi anzi più i più tecnologici possono inquadrare questo QR code come si fa quando uno sta in birreria con certi tristetti eccetera eccetera e automaticamente vi ritroverete su vostro telefono tutti i miei contatti telefono sito web email eccetera eccetera io come sa Alessandra rispondo a tutti ogni giorno ricevo una quantità di domande ma entro 24 48 ore rispondo sempre a tutti anche dal Giappone testimonio anche quando sono lontanissimo sì esatto scusa Alessandra sono in Giappone ma mi sono venuti i brividi di solito non ti rispondono proprio che sono lì all'angolo il tipo di vita che faccio il tipo di consulenza che faccio tra l'ospedale pazienti amici eccetera io non posso permettermi di staccare mai il telefono o il computer per cui sono sempre in collegamento con Whatsapp e mail eccetera dappertutto ottimo e questa è una caratteristica importantissima che è abbastanza rara tra i tuoi colleghi medici probabilmente lo faccio anche anche comprensibilmente perché sì comprensibilmente io lo faccio perché mi piace come dire avere il controllo di tutto quello che succede ai miei pazienti anzi detesto se un mio paziente mi dice non ho voluto disturbarla allora sono andato al pronto soccorso dell'ospedale di Canicatti dove hanno fatto un casino io dico ma perché ero mai chiamato capito e vi pregherei però di veramente di scrivermi tutti i vostri dubbi mi farebbe molto piacere poi fra l'altro voi siete un gruppo di persone particolarmente esperte e particolarmente ammotivate quindi le vostre domande non sono domande uziose sicuramente ma sono domande che hanno dietro una grosso importanza le risposte vedrò in maniera molto pesata e molto e molto rapida vero mi hanno detto un infermiere dell'Adi che non si possono usare le prolunghe sui pic e dunque volevo fare questa domanda le prolunghe sui pic ma no assolutamente non è vero assolutamente non è vero anzi lui ha proprio detto che sui pic soprattutto quelli messi nel braccio per avere autonomia vengono utilizzate le prolunghe anche io avevo sentito dire questa cosa nel senso che le prolunghe essendo comunque due due attacchi in più eccetera pareva aumentassero il rischio di infezioni in realtà pare di no allora una buona serata un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti grazie Alessandro